Nel pomeriggio così che potremo anche essere liberi prima oppure dedicare maggior tempo ancora al dibattito finale, ecco, come noi qui tutti speriamo. Volevo farvi un piccolo break di pubblicità nel senso che il Consiglio nazionale naturalmente non è stato con le mani in mano e sul regolamento ha pubblicato, come voi forse conoscerete già, questo volumetto della Collana Studi che insomma ha un suo decoro e quindi ricordo che per un primo approccio allo studio di questo regolamento vale anche il nostro libro, credo anche Domenico, che sia stata un po' una primizia, credo, in Italia, insomma almeno subito dopo l'approvazione del regolamento. Torniamo ai nostri lavori e al nostro programma. Adesso Isidoro Calvo Vidal, che è nottaio a Corugna, ci parla del certificato europeo delle successioni che speriamo tutti noi, soprattutto in un paese dove il certificato successorio, come da noi, è conosciuto solo in un paio di province, speriamo che invece sia una novità per noi di importanza e di interesse. Isidoro, puoi cominciare. Grazie Paolo, buonasera a tutti. E' un placer, ademais di un honor, di venire da Finisterre al centro della capital del Imperio, una volta più. Vorrei a parlare del certificato sucessorio europeo con la idea di transmitire a voi le linee fondamentali della regolazione di questa figura, che per molti paesi, per l'España, per esempio, è una novità, in tanto che non ci sia in España un documento similar, come può avere in altri paesi, come può essere in Francia, o in Alemania, o anche in Italia. Al tempo della transizione tra i siglos XX e XXI, le instituzioni europee hanno tomato in considerazione la necessità di promover una actuazione di creazione del certificato sucessorio europeo con la creazione del certificato sucessorio europeo, sin embargo, non establece nessun concepto ni nessuna definizione del mismo, e non si pronuncia di sua naturalezza juridica, a differenza di quello che succede con altre fórmulas documentali, come le risoluzioni, le transazioni e i documenti pubblici. Questi tutti hanno un carattere e un origen puramente nazional nei Stati membri. Il certificato sucessorio, in cambio, ha una regulazione estrictamente europea, per mai che sia di expedirsi nei Stati membri per le respecti autorità nazionali. In tanto che il certificato ha di essere expedito per una autorità pubblica dei Stati membri, ci permette di incluire il certificato dentro della categoria dei documenti pubblici. In cambio, le declarazioni di volontà, quelle che configurano un atto o negocio juridico, del testamento, la aceptazione o la renuncia della herenza, la particione della herenza per i herederi, queste declarazioni di volontà non si vanno a verter, non vanno a integrar il certificato sucessorio. In caso di che abbia existito, il certificato va a recogere la informazione delle messe, a modo di notizia, per integrare il suo contenuto. perché il certificato va a essere un documento che va a aseverare o a creditar la veracità o la certezza di determinati informazioni con caratteri juridico, tanto di hecho come di derecho. E così, con questi elementi, credo che il certificato sucessorio europeo lo podemos definire come il documento pubblico, estricamente europeo, che tiene per obiettivo la constatazione e la fijazione di hechos su cui base può essere fondata la declarazione della condizione di heredero, delegatario, di ejecutor testamentario o di administrador della herenza e il contenuto dei sui diretti e facolti per la accreditazione dei mesi in un Estado miembro distinto al di sua expedizione. Il ámbito di utilizzazione del certificato coincide, in principio, con il ámbito di applicazione del reglamento, è il ámbito di le sucessioni internacionali o transfronterizzate. E per questo, il certificato si va a expedire per essere utilizzato in un altro Estado miembro distinto al di la expedizione. Per questo, il certificato nace con una vocazione di extraterritorialità. non va a determinar di maniera automata ex proprio iure la utilizzazione del certificato sucesorio. e les pongo un esempio. La sucessione di un nacional, di un Estado miembro, un español, che fallece avendo la sua residencia habitual in un altro Estado miembro, in Italia, va a quedar sometida al reglamento in quanto che il reglamento va a determinar la lei applicabile a la sucessione e le norme di competenza rispetto a le autorità che intervenirei in la sucessione. Sin embargo, se per le circunstancias del caso concreto non è necessario tener che acreditar la condizione di heredero, delegatario, di ejecutore testamentario o di administrador della herenza in un altro Estado miembro, perché tutti i benessi della herenza stanno in Italia, perché tutti i herederi o gli interessati della sucessione stanno in Italia, quindi, anche appliciamo il reglamento a la sucessione, non va a essere suscettibile di utilizzazione il certificato sucesorio. Perché il certificato sucesorio surge come il passaporto, il passaporto del heredero, che, segun establece l'articolo 63 in l'apartado 2 del reglamento, va a essere possibile acreditar la qualità e i los derechos di cada heredero o di cada legatario mencionato nel reglamento, in su caso, le respecti le cuotas hereditarii. Tamb'è per acreditar la attribuzione di uno o varios bienes concretos che formen parte della herenza al heredero o al legatario, o di las facultades della persona mencionata per ejecutare in l'articolo 68, il che, al determinar il contenuto del certificato, establece l'elenco di le informazioni susceptibili di essere accreditati a través del empleo del certificato. Per iso podemos dicir che lo che si produce è una specie di causalizzazione del contenuto del certificato in la medida in che è la finalità per la che il solicitante insta la expedizione del certificato la che va a determinar il contenuto che il certificato valla a tener. si io sono esecutor testamentario e quero provare mi condizione di esecutor testamentario in un altro paese non vorrei necessitar acreditar quali sono i benes della herenza che si entregan al legatario se io sono un legatario di una cuenta bancaria in un altro paese e iso è lo che voglio creditar non è necessario con il certificato conste il resto delle circunstazioni come può essere il nombramento di un administratore della herenza quindi la finalità per la che se solicite il certificato va a determinar il contenuto del certificato il articolo 63 establece tambien una limitazione respecto di le persone che possono solicitar la expedizione del certificato e fare due matizazioni una en relación con il heredero desde mi punto di vista in tanto che il certificato serve per acreditar la condizione o la qualità del heredero questa condizione preexiste es previa a la solicitud e a la expedizione del certificato per lo tanto si damos esto así podemos entender che la pretensione la solicitud del certificato può essere considerato come un supuesto de tácita renuncia a la repudiazione della herenza en los derechos del corte germánico o come un supuesto de aceptazione tácita del herenza en los supuestos en los derechos del corte romano en los derechos germánicos la herenza se transfiere al causante perdón a los herederos de manera automática por el fallecimiento del causante los herederos tienen derecho a repudiarla si el heredero solicita la expedición del certificado porque quiere acreditar su condición en otro estado miembro es porque está dando por hecho que es heredero y por lo tanto está renunciando tácitamente a la facultad de repudiar la herencia en los derechos de base romana el derecho italiano el derecho español la adquisición de la herencia requiere de la aceptación del llamado la aceptación puede ser expresa o tácita si yo estoy solicitando la expedición del certificado porque quiero acreditar mi condición de heredero en el extranjero es porque estoy dando por hecho que soy heredero y por lo tanto tácitamente estoy aceptando la herencia otro apunte en relación con la figura de los legatarios el artículo 63 1 fue modificado en el trámite parlamentario para reducir la posibilidad de utilización del certificado aquellos legatarios que tienen derechos directos en la herencia se distinguen así en los estados miembros en los derechos aplicables dos tipos de legatarios los que tienen derechos directos en la herencia el legado de efectos reales del derecho español que el legatario adquiere al tiempo del fallecimiento del causante y los legados de efectos obligacionales que son los que conoce por ejemplo el derecho alemán pues bien si el certificado sucesor europeo solo puede ser utilizado por los legatarios que tengan derechos directos en la herencia los legatarios favorecidos con un legado de efectos meramente obligacionales no van a poder utilizar el certificado ni para acreditar su cualidad ni para reclamar sus derechos como pudiera ser el cumplimiento del legado de la persona que el testador hubiere grabado con el mismo el certificado sucesor europeo nace en un entorno donde existen otros documentos análogos para fines similares sin embargo el certificado no viene a sustituir a los documentos internos sino que se suma a los mismos y en principio solo para el supuesto de que haya de ser utilizado como decíamos antes en el territorio de otro estado miembro pero tampoco los documentos internos constituyen un paso previo necesario para la obtención del certificado es decir yo no necesito el act de notorieté en Francia para después obtener el certificado sucesorio yo no necesito el Erbsheim alemán para obtener el certificado sucesorio puedo utilizarlo pero no es necesario porque el certificado en relación con los documentos internos nace con dos características su autonomía y su independencia y la consecuencia inmediata de este planteamiento es que la utilización del certificado no tiene carácter obligatorio esto supone que cuando un heredero tenga que acreditar su condición en otro estado miembro podrá utilizar y elegir libremente dos posibilidades utilizar el documento interno que surtirá en el propio país los efectos que establezca el ordenamiento de origen y en el estado de destino los que este considere teniendo en cuenta que se habrá que aplicar en su caso en el ámbito de aplicación del reglamento las normas de reconocimiento de resoluciones o de aceptación de documento público en función de la naturaleza del documento pero también podrá elegir el certificado sucesorio y en este caso los efectos del certificado sucesorio serán siempre los mismos en cualquier lugar los que establece como veremos después el artículo 69 del reglamento y serán efectos que producirá tanto en el estado de destino como en el propio estado de origen la consideración del certificado sucesorio como un instrumento con entidad con autonomía y con características propias distintas de los documentos internos va a determinar como decía por la mañana el colega Barone posibles supuestos de concurrencia incluso el surgimiento de eventuales conflictos que van a estar motivados fundamentalmente por el distinto alcance de sus respectivos efectos incluso podemos afirmar que van a poder llegar a surgir dos tipos distintos de herederos delegatarios de ejecutores testamentarios o de administradores de la herencia por una parte aquellos que siendo llamados únicamente a una sucesión interna solo se van a poder servir del documento nacional con los efectos que cada ordenamiento disponga y frente a estos van a estar los que sean llamados a una sucesión internacional que van a tener también la posibilidad de servirse del certificado sucesorio europeo pero si damos un paso más estas diferencias se van a plantear no solo respecto de los llamados a la sucesión sino también respecto de aquellos que en el tráfico se relacionen con estos existen documentos internos nacionales de fines análogos a los del certificado que no establecen ningún efecto de protección para los terceros y en cambio el efecto de protección de los terceros en la medida en que vamos a ver después sí que está previsto para el certificado sucesorio esta situación de desigualdad cuando no de discriminación que puede llegar a plantearse parece que va a aconsejar y en algunos casos ya está ocurriendo un movimiento de reforma legislativa en los estados miembros bien para equiparar los efectos del documento interno a los del certificado sucesorio bien para admitir el certificado sucesorio a las sucesiones estrictamente nacionales y esta es una de las líneas que me parece que está siguiendo en la reforma el derecho de los Países Bajos el artículo 2 del reglamento parte de un principio de neutralidad respecto de las competencias de las autoridades de los estados en materia de sucesiones pero como el certificado es un documento estrictamente europeo el reglamento establece normas de competencia normas de competencia funcional normas de competencia territorial respecto de las primeras el artículo 64 establece que el certificado podrá ser expedido por el tribunal en los términos que se definen el artículo 3 2 o por otra autoridad que en virtud del derecho nacional sea competente para sustanciar sucesiones mortis causa teniendo en cuenta que como esta mañana oíamos en los estados miembros la figura del notario en ocasiones ejerce funciones jurisdiccionales jurisdiccionales en algunos estados en otros no ejerce funciones jurisdiccionales y por ejemplo en el caso de España ejercemos funciones jurisdiccionales en algunos casos cuando hacemos la declaración de herederosa vinte estato pero no en el resto se puede afirmar que del conjunto y como además se refiere expresamente en el considerando 70 es perfectamente posible que el notariado tenga la consideración de autoridad competente para expedición del certificado y así esperamos que la mayoría de los estados miembros con notariado latino el notariado sea designado con esta competencia antes del 16 de noviembre de 2014 pero les decía que el artículo 64 establece también reglas de competencia para la expedición del certificado mediante la remisión a los artículos 4 7 10 y 11 la regla general la oíamos esta mañana es la atribución de la competencia a la autoridad del estado miembro donde el causante hubiese tenido su residencia habitual al tiempo de su fallecimiento residencia habitual tontos problemas que nos va a dar porque frente a otros puntos de conexión singularmente frente a la nacionalidad que está caracterizada por una certeza y por una evidente definición y sencillez la dificultad que plantea la residencia habitual es la de su propia determinación y fíjense que a pesar de esta dificultad es una de las cuestiones que en primer lugar va a tener que valorar la autoridad a la que se solicite la expedición del certificado para poder evaluar y decidir sobre la propia competencia de tal manera que si el juicio es favorable admitirá la solicitud y comenzará la tramitación del certificado pero si considera que no es la residencia habitual la de su competencia tendrá que denegar la solicitud pero dada la complejidad que es innata toda la sucesión internacional es posible que una estimación inicial favorable a la competencia pueda resultar alterada o desvirtuada como consecuencia de aquellas circunstancias o acontecimientos que se vayan conociendo a consecuencia de la tramitación del certificado en cuyo caso siendo así la autoridad que inicialmente aceptó la competencia deberá declararse de oficio incompetente y suspender la tramitación del certificado las otras reglas de competencia muy sencillamente establecen excepciones a la regla general la primera la que establece el artículo 7 viene establecida por aquellos supuestos en los que el causante haya optado por la ley de su nacionalidad como ley rectora de la sucesión con la finalidad de que sea la misma autoridad y la misma ley aplicable la que se encarguen de la expedición del certificado a petición de los interesados en la sucesión puede reconocerse la competencia a la autoridad de la nacionalidad del causante otro supuestos el artículo 10 deriva de la estrecha imbricación que hay entre el derecho de sucesiones y el derecho de bienes de tal manera que la competencia se puede atribuir en los supuestos que regula a la autoridad de ubicación de los bienes de la herencia finalmente el artículo 11 establece la regla del foro necessitatis de tal manera que cuando ninguna autoridad resultare competente con arreglo a las reglas anteriores la expedición del certificado corresponderá a la autoridad del estado con el que supuesto plante una vinculación suficiente en este caso sin embargo y tratándose del certificado sucesorio desde mi punto de vista esta excepción la debemos de entender como no puesta o como cumplida en cualquier caso porque porque en el supuesto de que una sucesión pudiese ser tramitada en un tercer estado en Estados Unidos en Estados Unidos los herederos no van a poder obtener el certificado sucesorio porque el certificado sucesorio solo se lo va a poder expedir una autoridad europea de un estado miembro de tal manera que en esos supuestos cuando no tengamos la vinculación del artículo 4 del artículo 7 del artículo 10 tendremos que venir siempre el artículo 11 porque al menos desde mi punto de vista no puedo dejar a ningún interesado que quiera servirse del certificado sucesorio europeo sin autoridad competente y el artículo 11 me da la solución a esta cuestión teniendo teniendo en cuenta el carácter voluntario de la utilización del certificado el certificado no se expide de oficio por el mero hecho de que una autoridad competente haya recibido el encargo de sustanciar una sucesión mortis causa y aunque la autoridad vea que es claramente un supuesto de una sucesión transfronteriza la expedición del certificado solo tiene lugar a instancia de parte y el artículo 65 es el que fija tanto la legitimación para la obtención del certificado como el contenido de la solicitud para la solicitud el artículo 65 establece la posibilidad de utilizar un formulario de los que van a ser establecidos conforme al procedimiento que regula el artículo 81 el apartado segundo posibilidad la utilización del formulario para la solicitud del certificado tiene carácter voluntario potestativo de tal manera que el interesado el profesional que reciba la solicitud puede servirse de cualquier otra fórmula documental para recibir la información del solicitante el elenco de las informaciones que establece el artículo 65 son las referidas al solicitante al causante a los posibles beneficiarios hay también informaciones de carácter procesal y después un apartado de informaciones de carácter potestativo voluntario en estas últimas creo que se deben incluir aquellas en las que cuando el solicitante pretenda la expedición del certificado con la intención de utilizarlo como prueba de la atribución de bienes pueda acreditar la titularidad de que estos bienes pertenecían al causante o la causa o el negocio por la cual le fueron atribuidos porque no hay ningún otro supuesto en el artículo 65 que permita hacer una referencia expresa a los bienes del causante así como el formulario para la solicitud del certificado tiene carácter voluntario es obligatorio el empleo del formulario para la expedición del certificado yo formo parte del grupo de trabajo de sucesiones del consejo de los notariados de la un europea por parte del notariado español y es ahora mismo donde estamos trabajando en la redacción de los formularios muy difícil muy difícil porque yo siempre pienso que una sucesión es de por sí compleja una sucesión internacional es mucho más compleja y la idea del legislador europeo de querer reducir toda esa complejidad a un formulario con casillas con cruces con sí con no es muy difícil pero hay que intentarlo les decía que esta utilización del formulario es cierto que constituye uno de los elementos fundamentales para poder disponer de un modelo uniforme a disposición de los beneficiarios de una sucesión transfronteriza en los estados miembros es cierto también que como antes decía el certificado desde mi punto de vista se tiene que considerar como un documento abierto flexible de geometría variable hay que utilizarlo para aquello que se necesite no tenemos que estar pensando en un certificado completo siempre y en todos los casos y en este sentido las informaciones del artículo 68 también se pueden agrupar aquellas que son referidas a la autoridad que pide el certificado y a las circunstancias que lo identifica las informaciones relativas al solicitante las informaciones relativas al causante llama la atención que como hemos visto esta mañana y acabamos de comentar que el reglamento de sucesiones le asigna una importancia fundamental a la residencia habitual del causante y sin embargo no hay ninguna referencia en el contenido del certificado en el artículo 68 a la residencia habitual del causante y después podemos hacer otro grupo para incluir lo que son las informaciones relativas a las bases jurídicas de la sucesión en este caso la autoridad emisora va a tener que desplegar toda la actividad necesaria para determinar en primer lugar y de manera preferente la ley de la sucesión debiendo de hacer constar de manera expresa los extremos que han fundamentado esa decisión de elección de esa ley también podemos incluir aquí las informaciones relativas a si la sucesión es testada o intestada y aquellos extremos de donde derivan los derechos o las facultades de los interesados en la sucesión se trata en definitiva de que el certificado recoja la información relativa al título de la sucesión y finalmente habrá un apartado para las informaciones relativas a los beneficiarios si configuramos el certificado como el pasaporte de los herederos en Europa van a ser estas las informaciones que constituyan el elemento más relevante de su contenido porque sobre ellas se van a erigir como vamos a ver ahora los efectos del artículo 69 pero la autoridad emisora deberá de hacer constar también las condiciones las restricciones las limitaciones que a estos derechos de los beneficiarios de la sucesión les puedan resultar de la propia disposición mortis causa o de la ley aplicable a la sucesión cualquiera de ustedes no les digo que cierren los ojos porque igual no los vuelven a abrir pero si cualquiera de ustedes ahora se pone a pensar en las limitaciones que en cada ordenamiento propio puede tener un heredero o un legatario y si se piensan que si no dicen esa limitación y el que va a utilizar el certificado se la salta y que de no haberlo dicho la autoridad expedidora del certificado puede resultar responsable se darán cuenta de la dificultad que va a entrañar en este punto la redacción del certificado pero también se van a dar cuenta de que seguramente es esta la mejor manera de facilitar a los ciudadanos en Europa la posibilidad de hacer circular su título su carácter de heredero termino la intervención refiriéndome a los efectos del certificado sucesorio en el considerando 71 del reglamento el legislador europeo sostiene como línea de principio que el certificado debe surtir los mismos efectos en todos los estados miembros y el artículo 69 reitera esta afirmación y añade que estos efectos se producirán sin necesidad de ningún procedimiento especial a diferencia de las resoluciones de los documentos públicos de las transacciones judiciales los conceptos de reconocimiento y de aceptación no son aplicables al certificado sucesorio no operan cuando se trata del certificado sucesorio según el artículo 69 en el apartado segundo se presumirá que el certificado prueba los extremos que han sido acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia esta delimitación en la práctica se traduce en la exclusión del ámbito de la presunción de aquellos elementos que aun formando parte del contenido del certificado han de resolverse como cuestiones previas o accesorias y que se encuentran regidos por normas que no son del derecho de sucesiones como pueden ser del derecho de persona del derecho de familia del derecho de propiedad o derechos reales o del derecho de obligaciones el artículo 69 punto 2 también dispone que se presumirá que la persona que figure en el certificado como heredero legatario ejecutor testamentario administrador de la herencia tiene la cualidad en el indicada o es titular de los derechos o facultades que se expresen sin más condiciones o las limitaciones que las mencionadas en el certificado en realidad cada una de estas cuestiones se rigen como establece el artículo 23 por la ley de la sucesión que resulte determinada en aplicación de los criterios que establecen los artículos 21 y 22 por tanto esta segunda parte del artículo 62 estaría embebida implícita en la primera parte y no habría sido necesario convencionarla expresamente sin embargo si el legislador lo hace es por la trascendencia y la relevancia de estas informaciones a la hora de facilitar la tarea de los protagonistas de las sucesiones internacionales acerca de la naturaleza de estas presunciones como el reglamento establece en el artículo 71 que el contenido del certificado puede ser objeto de rectificación de modificación o de anulación estamos en presencia de de presunciones iuris tantum que por lo tanto admiten prueba en contrario en la medida que prueba los extremos que han sido acreditados de conformidad con la ley de la sucesión el certificado dispensa a la persona que figure en el designada de tener que servirse de otros medios de prueba de los documentos internos de fines análogos pero al mismo tiempo obliga a pasar por su contenido en tanto que este no haya sido contradicho a aquellos otros frente a los cuales el certificado se trate de hacer valer pero el certificado como les decía también delimita la posición de la persona designada porque establece cuenta con las restricciones o limitaciones que para la misma resultan de la disposición mortis causa o de la ley de la sucesión el artículo 69 2 en realidad lo que opera es un desplazamiento de la carga de la prueba sobre aquel que pretendiere la contradicción de las informaciones del certificado reglamento sobre sucesiones sin embargo no agota los efectos del certificado en esta presunción de veracidad sino que la proyecta al tráfico a las relaciones con los terceros en la protección de la buena fe según el artículo 69 3 se considerará que cualquier persona que en virtud de la información contenida en un certificado efectúe pagos o entregue bienes a una persona que figure facultada en el certificado para recibir tales pagos o bienes ha tratado con una persona autorizada para ello a menos que tenga conocimiento de que el contenido del certificado no responde a la realidad o no tenga conocimiento de ello por negligencia grave dos supuestos típicos de utilización del artículo 69 3 El comprador de un bien en vida del causante ha pactado con el vendedor un aplazamiento del pago del precio y fallecido el vendedor satisface el importe pendiente a quien de acuerdo con el contenido del certificado tiene la condición de heredero del vendedor Supuesto más típico el de la entidad financiera que habiendo en su poder un depósito de dinero de valores o defectos constituido por el causante procede a su entrega a la persona que según el contenido del certificado ostenta la cualidad delegatario favorecido por el testador con esta atribución cierta y determinada Un deber mínimo de diligencia exigible a cualquier tercero que pretenda pararse en los efectos del artículo 69.3 lo mismo que en el artículo 69.4 es que requiera la presentación de una copia del certificado de una copia auténtica y que además se halle dentro del periodo de vigencia que establece el artículo 70 les he leído el artículo 69.3 y lo que dice el artículo 69.3 es lo que el legislador escribió en el artículo 69.3 que se entiende que el que ha realizado el pago y la entrega de bienes ha actuado con persona facultada para ello el efecto de la protección del artículo 69 por ejemplo no se extiende a otras cuestiones como pudieran ser la capacidad del que recibe el pago ni tampoco a la titularidad de los bienes objeto de la entrega y de la misma manera que para determinar la existencia y el contenido de la obligación de la que deriva de la prestación de pago o de entrega de bienes no vamos a tener en cuenta la ley de la sucesión sino el derecho de obligaciones que resulte aplicable al supuesto concreto también se estará a lo que establezca la ley de la obligación para decidir sobre los efectos o el alcance de dicho pago o entrega a diferencia del artículo 42 de la propuesta el artículo 69 no establece que el pago tenga un efecto liberatorio establece simplemente que la persona que realiza el pago la entrega de bienes a quien está designado en el certificado actúa con persona facultada para ello el efecto del pago si es liberatorio o no no lo puede establecer el reglamento de sucesiones porque ese efecto sólo corresponde establecerlo a la ley de la obligación la segunda regla de la protección de la buena fe es la del artículo 69 4 que también les leo literalmente dice cuando una persona que figure facultad en el certificado para disponer de los bienes de la herencia disponga de los mismos en favor de otra persona se considera que ésta si actúa en virtud de la información contenida en el certificado ha tratado con una persona facultada para disponer de los bienes en cuestión a menos que tenga conocimiento de que el contenido del certificado no responde a la realidad o no tenga conocimiento de ello por negligencia grave en este caso la buena fe cuya protección se persigue es la del tercero que adquiere un bien de la herencia de persona que según el contenido del certificado se halle debidamente legitimada para transmitirla y otras cuestiones vuelven a quedar al margen de esta regla de protección como las relativas a la capacidad del transmitente a la titularidad de los bienes objeto de la transmisión plantea que el reglamento sobre sucesiones como señala el artículo 71 no deba determinar si la adquisición de los bienes por tercera persona es efectiva o no dejando por tanto que sean los derechos de los estados miembros los que hayan de ser tomados en consideración para decidir sobre las mismas y esta última previsión es perfectamente congruente con la lógica en la que se sitúa el reglamento sobre sucesiones en el ámbito del derecho de bienes y lo que se puede afirmar es que el efecto de esta regla es el de contribuir a reforzar la posición del tercero como un elemento más para la acreditación o la prueba de la buena fe en la medida en la que ésta constituya un requisito esencial para las adquisiciones a non domino en cada uno de los derechos nacionales la regulación de los efectos del certificado culmina con la disposición del artículo 69 5 en el cual se establece que el certificado será un título válido para la inscripción de la adquisición hereditaria en el registro competente de un estado miembro sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 apartado 2 letras K y L por cuya virtud se encuentran excluidos del ámbito de aplicación del reglamento sobre sucesiones la naturaleza de los derechos reales y cualquier inscripción de derechos sobre bienes muebles o inmuebles en un registro incluidos los requisitos legales para la práctica de los asientos y los efectos de la inscripción o de la omisión de inscripción de tales derechos en el mismo el propósito que encierra el artículo 69 5 es el de poner a disposición de los protagonistas de la sucesión internacional un medio adecuado de acceso a los sistemas internos de publicidad registral de modo y manera que cuando la sucesión comprenda bienes situados en distintos estados miembros el interesado pudiera disponer de un título único el certificado sucesor europeo para la práctica de las correspondientes inscripciones en cada uno de los estados este objetivo por sí laudable se encuentra con el escollo insalvable del que el legislador es consciente y por eso la excepción y la remisión al artículo 1 de que es exclusiva la competencia de los estados en régimen de publicidad registral será por tanto en los ordenamientos internos de los estados miembros que también se caracteriza en esta materia por una notable diversidad donde han de buscarse los requisitos que se exigen para poder causar inscripción en cada uno de los registros nacionales sin embargo si buscamos el apoyo en el considerando 18 podemos sostener que el rechazo del certificado expedido en otro estado miembro a los efectos del registro no puede justificarse únicamente sobre la base de las disposiciones internas de reserva exclusiva a favor de los documentos nacionales les quiero decir con estos señores que hay determinados países de los estados miembros en los que sólo acceden a sus registros de la propiedad documentos expedidos por las autoridades nacionales es el caso de Alemania es el caso de Francia es el caso de Italia es el caso de Países Bajos no es el caso de España en España los documentos de notarios extranjeros acceden al registro pues bien lo que yo les quiero decir es que a partir de esta regulación del reglamento no se va a poder excusar la no inscripción de un documento extranjero sobre la base de estas disposiciones nacionales en primer lugar desde mi punto de vista porque cuando hablamos del certificado hablamos de un documento europeo no de un documento extranjero por eso considero que este carácter estrictamente europeo que el reglamento sobre sucesiones confiere al certificado como perteneciente al espacio común de libertad de seguridad y justicia que constituye la Unión Europea debe contribuir a favorecer también en estos casos a su consideración como título para la inscripción de la adquisición hereditaria en el registro de la propiedad muchas gracias isidoro esto es un tema de quelli que ci occuperá mucho moltísimo porque avete visto ricco de cuantos particulares yo devo dire isidoro como le he detto tante volte que noi italianos aspettamos con ano si el certificado non vediamo l'ora di vedere el certificado successorio diversamente da quello que pensano altri notariati e altri paesi ma a chi non ce l'ha così a chi non ce l'ha l'ansia di avercelo mette questi sentimenti a chi ha già invece un proprio certificato questo da forse un po di disturbo ma lo vedremo anche andando avanti e magari anche nel dibattito di oggi proseguiamo l'opera con un intervento che richiama un po' la parte finale di stamattina ha permesso c'è già una domanda dalla platea facciamola fare subito se c'è se c'è il microfono a disposizione o se può prendere anche qui se se vorrei se se una domanda according al romanian la civil notari under the internal law può issue un certificato di inheritance questo è similar to the act notarietà in France or to the Erbsheim as issued by the German tribunal I believe in accordance to the regulation that the civil notari in Romania may also issue a certificate of inheritance according to internal law even when it is not competent as a jurisdiction according to the regulation because it is not a jurisdictional authority but when issuing an European certificate will the Romanian notary be bound by the rules of jurisdiction or not The authorities in every state will be going to be the certificate of the successor will be the state members will communicate before the 16 of november 2014 to the European European The European will publish the elenco of autoridades competentes in every state es decir si a mi me llega un certificado expedido por un notario rumano y yo en la información de la comisión veo que la competencia solo está atribuida en Rumanía a los magistrados o los jueces yo no puedo considerar que ese sea un certificado sucesor europeo y la segunda cuestión el artículo 64 del reglamento atribuye la competencia funcional para expedir el certificado sucesorio bien a los tribunales en los términos que define el artículo 3 2 o bien dice a cualquiera otra autoridades que en los estados miembros tengan competencia para sustanciar sucesiones mortis causa a mí no me cabe ninguna duda que los notarios tenemos competencia para sustanciar sucesiones mortis causa pero es necesario que el gobierno español que el gobierno rumano que el gobierno italiano nos encomiende la competencia dicho lo cual una vez que el notariado el juez otro operador jurídico cualquiera haya sido designado como autoridad competente para expedir el certificado las reglas de competencia territorial que establece el reglamento de los artículos 4 7 10 11 por la remisión que se hace en el artículo 64 son de aplicación obligatoria son carácter tienen carácter de derecho necesario es decir si un causante tuvo su residencia habitual en Italia y por cualquier circunstancia la familia viene a la notaría de la coruña para pedirme un certificado sucesorio europeo como yo no encuentro algún punto de conexión en el resto de los artículos yo no voy a pedir el certificado sucesorio pero es más en el artículo 68 se establece como una de las menciones que se deben de hacer constar en el certificado el fundamento de la competencia de la autoridad que lo expide de tal manera que yo está mi competencia y mi competencia puede estar en cualquiera de los cuatro artículos que establece la ley esa es mi bien una domanda me riesco a capire como conciliamos el artículo 69 parágrafo 5 y parlábamos de eso con notario pascuales con el artículo 1 2 L K un po meno ma soprattutto L come conciliamo pues yo estoy en trance de entenderlo mire desde mi punto de vista el artículo 69 5 podíamos considerarlo como una norma de una directiva incluida en un reglamento el artículo 69 5 lo que dice es necesitamos que los ciudadanos puedan disponer de un solo documento para acceder a los registros pero somos conscientes de que los registros están fuera de nuestra competencia por lo tanto yo lo entiendo de la siguiente manera si el certificado sucesorio cumple todos los requisitos que exige el ordenamiento interno para acceder al registro el certificado sucesorio será inscribible de hecho en los modelos de formulario sobre los que estamos trabajando cuando en la parte final se hace se establecen las menciones de los bienes asignados a los herederos hay una nota a pie de página que dice que la autoridad que expida el certificado atienda a la legislación del estado del registro para hacer constar las menciones que en esa inscripción va a hacer falta y en el artículo 80 y algo se establece que las autoridades van a a tener que comunicar a la comisión las informaciones para que las autoridades expedidoras del certificado sepan qué requisitos hay que hacer constar para poder acceder a los registros nacionales saben ustedes que en el registro español que es un registro especialmente riguroso llevado por profesionales especialmente cualificados con una relación no siempre buena con el notariado yo estoy en condiciones de afirmar que el certificado sucesorio cumpliendo los requisitos que establece la ley española para la ley española para inscribir un bien inmueble hay que hacer constar la referencia catastral o hay que hacer aportación de un certificado de eficiencia energética o hay que describirlo con los lindes por norte sureste oeste o si es bien inmueble por izquierda derecha frente y fondo si cumple esos requisitos el certificado sucesorio se va a inscribir porque además no inscribirlo iría contra el efecto útil de los instrumentos europeos que tiene proclamado el tribunal de justicia ya en reiterada doctrina aggiungo solo che questo dilemma del legislatore europeo che si nota già negli articoli citati cioè il fatto che il regolamento non tocca i pubblici registri e quindi il certificato non dovrebbe servire a quello ma poi viene definito addirittura titolo nell'articolo 69 anche se non è definito titolo in tutte le lingue perché in italiano è definito titolo in inglese e in francese è definito documento val valido documento per l'ambiguità l'incertezza si nota anche nei considerando 18 e 19 anche forse dove appunto proprio è un classico esempio di un colpo al cerchio o no la botta si direbbe dove si dice che i requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento spetterebbe pertanto alla legge dello stato membro in cui è tenuto il registro determinare per gli immobili quindi dall'ex reisite le condizioni legali e le modalità di iscrizione però poi si dice la professoressa sta già andando avanti credo nella lettura e per questo sgnazza ma per evitare la duplicazione dei documenti le autorità preposte alla registrazione qui si intende alla tenuta del registro nel linguaggio dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro stato membro in particolare il certificato successore europeo rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l'iscrizione ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi quindi voi vedete adesso l'ho letto un po' in fretta mi scuso con gli interpreti ma voglio dire si vede qual è stato il tormento se non l'ambiguità nello stendere queste norme forse Domenico lo avrà visto no 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 non l'hai scritto tu ma io stavo dicendo tu li avrai guardati negli occhi insomma quando questi stavano anche il 19 sì gli effetti dell'iscrizione di un diritto dovrebbero essere altresì esclusi ma la legge quindi vedete questo è stato veramente un punto dove insomma l'ambiguità permane o comunque il tormento permane anche nel testo definitivo e quindi a noi cavarcela qui si parrà la nostra nobilità e non lo so ma giochiamocela così voglio dire scusate ma insomma non è neanche una digressione perché sono questioni anche molto pratiche che ci toccherà affrontare sul piano delle questioni pratiche e riprendendo il discorso che era già stato avviato a fine mattinata adesso tocca a Ugo Friedman a proposito delle norme transitorie che sono già oggi diciamo bollenti o possono diventarlo facilmente per quello che riguarda la nostra attività quotidiana prego Spero di soddisfare al compito che mi è stato affidato da Paolo Pasqualis io tratterò brevemente delle disposizioni transitorie e poi tratterò invece di una cosa un po' fuori programma cioè di un caso fiscale un po' per evidenziare la discrasia o comunque lo iato che c'è tra i criteri di collegamento da un punto di vista civilistico e i criteri di collegamento da un punto di vista fiscale che generano spesso situazioni non coerenti il tema del convegno è quindi in sostanza sembrerebbe dire che parliamo di qualcosa che ci riguarderà solamente dal 17 di agosto del 2015 e che oggi tutto sommato è per noi di poco interesse quindi quando nel nostro studio si presenta un cittadino italiano che attualmente ha una residenza abituale all'estero e con ogni probabilità continuerà a mantenerla dopo il 17 di agosto del 2015 noi tendenzialmente se così prendessimo le cose un po' alla leggera dovremmo pensare che per ora nulla gli possiamo dire o suggerire e nessun allarme particolare dobbiamo dargli ma che solo dopo l'eventuale suo decesso dopo il 17 agosto del 2015 previa un'eventuale disposizione la cosa sarebbe di interesse così non è in realtà perché perché a un primo sguardo ci rendiamo conto che questo cittadino italiano che è abitualmente residente all'estero e che è serenamente convinto che la sua successione dal 17 di agosto del 2015 continuerà ad essere regolata dalle norme che fin qui lo hanno accompagnato e quindi dalla legge italiana in quanto sua legge di nazionalità così come per molti altri paesi l'Austria la Germania la Grecia l'Italia la Polonia il Portogallo la Slovenia la Spagna la Svezia e l'Ungheria per dirne alcuni come stamattina chi mi ha preceduto diceva in realtà così non è perché se questo signore deciderà abbintestato dopo il 17 di agosto del 2015 senza avere prima fatto nulla la sua successione sarà regolata non più dalla legge di cittadinanza ma dalla legge di residenza abituale ed ecco allora che il regolamento che entrerà diciamo in efficacia a sua piena dopo il 17 di agosto del 2015 ha già degli aspetti di estremo interesse per l'attività pratica del notaio che a questo signore dovrebbe dire attenzione che forse è opportuno che lei oggi faccia una disposizione testamentaria in cui faccia una scelta seppur condizionata al fatto che lei abbia la grazia di morire dopo il 17 di agosto del 2015 e faccia una scelta di diritto applicabile in modo tale che anche dopo la sua morte se questa è la sua scelta o il suo desiderio la sua successione sia regolata dal diritto italiano come fin qui la sarebbe stata e quindi effettivamente ecco un primo aspetto per cui la opzio iuris che nel sistema del regolamento è prevista diventa una scelta in alcuni casi importante e forse necessaria e che quindi la nostra attività di consulenza deve prenderne dovuto conto questo sempre questo cittadino in realtà come si diceva stamattina in un acquisito che era stato fatto potrebbe avere già fatto una disposizione testamentaria secondo il diritto italiano in modo inequivocabile diciamo e che quindi esprima in modo assolutamente certo che le norme che lui intende applicare sono quelle del diritto italiano e conseguentemente questa disposizione mantiene il suo valore per i principi che stamattina vi sono già stati espressi e conseguentemente la preoccupazione che il cittadino italiano che è venuto nel nostro studio pur essendo residente abituale all'estero a cui abbiamo fatto fare un testamento senza un'esplicita opzione di diritto poi si ritrovi la sorpresa di essere regolato da un altro diritto non dovrebbe porsi però attenzione che questo diritto non contenga norme questo è un dubbio che io mi ponevo che possano in qualche modo essere simili o in qualche modo non essere così chiaramente le norme del diritto italiano per cui se io ho fatto una disposizione testamentaria che al limite contenga delle disposizioni che sono anche contenute nel diritto del luogo di mia residenza abituale mi chiedevo posso andare a pensare che io implicitamente a questo punto ho fatto una scelta tacita per cui in realtà io cittadino italiano già oggi residente abituale in quello stato estero avendo fatto un testamento serenamente in Italia che pensavo di fare come regolato dalla legge italiana mi ritrovi un domani regolato da quel diritto se ipoteticamente anche quel diritto conosce una legittima anche quel diritto conosce una riserva e io mi sono limitato a dire lascio la legittima lascio la riserva invece di dire o di trattare aspetti che effettivamente avrebbero ben chiaramente fatto comprendere che la mia intenzione era quella di testare secondo il mio diritto nazionale anche questo aspetto a mio avviso forse va considerato e quindi una volta di più l'esplicita opzione per il diritto italiano d'ora in poi quando il cittadino italiano si dovesse presentare al nostro studio va fatta ma al tempo stesso gli va rappresentato il fatto che lui ben potrebbe non fare nessun'opzione non fare nessun testamento e ben farsi regolare nella sua successione da quello che sarà il diritto dello stato con cui avrà questa residenza abituale e che forse potrà essere un diritto in quel caso lui più confacente e quindi effettivamente la norma della disposizione transitoria che consente da un lato oggi di dare chiarezza a un assetto futuro ben potrebbe essere una norma che consiglia di nulla fare in certi casi ad esempio se io faccio il ragionamento su quella che è la norma di diritto internazionale privato italiano che già oggi mi consente rispetto a una residenza in uno stato estero di fare un opzio iuris per il diritto di quello stato a condizione che io sia residente quando dispongo e sia residente lì quando muoio effettivamente questa norma anticipa quello che sarebbe l'effetto legale del regolamento però a condizione dice la norma del diritto internazionale privato che i legittimari non subiscano nessuna lesione o nessuna limitazione se però io nulla faccio e quando muoio sono residente in quello stesso stato e quindi la mia successione sarà regolata dal diritto dello stato della mia residenza abituale quella successione subirà ancora la limitazione che è contenuta nel diritto internazionale privato italiano della tutela dei legittimari o non la subirà più e allora in quel caso anche lì mi chiedo sarà opportuno per il nostro testatore disporre o sarà opportuno per il nostro testatore aspettare non sarà poi sempre facilissimo perché se il concetto di residenza abituale non è un concetto effettivamente è sempre così intuitivo io penso a soggetti che sempre più oggi sono distaccati presso società estere e che trascorrono come si diceva stamattina periodi di tempo anche lunghi all'estero e portano con sé la famiglia e portano con sé i figli e li fanno studiare in questi paesi allora questa residenza abituale tendenzialmente diventa un criterio mobile perché tempo per tempo quel luogo in cui queste persone si trovano potrà essere qualificato come residenza abituale io suppongo e anche lì sarà difficile allora andare o dovremo sapere ben chiarire alla persona che si presenta da noi che oggi lui magari pensa di poter regolare la sua successione secondo il diritto americano dove presumibilmente passerà 4 anni ma visto che in tendenza poi si troverà mandato in Tanganyika per altri 5 anni probabilmente tutto questo meccanismo che io potrò oggi predisporre andrà valutato e se da un lato l'opzione toglierà ogni dubbio perché effettivamente l'opzione sarà per la legge di nazionalità e dovunque mi distacchino effettivamente io avrò quel trattamento che mi è riservato però se quella non è la mia intenzione ma voglio lasciarmi una strada aperta forse dovrò fare delle valutazioni cioè quindi a mio avviso diventa importante che questo soggetto diventi consapevole e non sia più in un certo qual senso come oggi inconsapevole perché questa opzione che il regolamento dà ai soggetti che a questo punto sono trattati o si trovano all'interno di una successione internazionale e che una volta erano casi isolati mentre oggi dobbiamo dire sono e diventano sempre di più casi frequenti effettivamente ci deve far riflettere e quindi sino da oggi ci deve attivare non che ogni volta che nel nostro studio si presenta a comprare un box un cittadino aere noi dobbiamo poi prenderlo da parte e dirgli lei è consapevole di quello che l'aspetta dal 17 di agosto del 2015 però forse effettivamente potrebbe far parte della effettiva della nostra professionalità e anche di un di un corretto modo di dare consigli quello di segnalare a questa persona quello che presumibilmente sempre che la sola residenza aerea possa essere l'elemento che alla luce di quello che abbiamo detto stamattina qualifica la residenza abituale di quello che aspetta questo signore dal 17 di agosto del 2015 e quindi che se scaramanticamente da giovane lo porterebbe a dire io testamenti per adesso proprio non ne vorrei fare mai nella vita potrebbe invece indurlo a decidere di farlo per effettivamente e quindi dare un buon risultato e quindi da questo punto di vista mi sembra che la disposizione dell'articolo 83 che poi ha altre implicazioni se vogliamo più particolari ma che però se non su richieste particolari vorrei trattare va tenuta in assoluta considerazione nello svolgimento concreto e pratico della nostra professione questo era un po' l'aspetto che mi faceva a cuore trasmettere in questa occasione proprio da un punto di vista eminentemente pratico e concreto se ci sono invece domande su situazioni particolari io forse non so Paolo se è il caso prima di passare eventualmente all'aspetto fiscale di approfondirla andiamo col cambio grazie no dicevo siccome questo è un problema forse tra i tanti più attuali immediato se ci sono domande interventi o idee anche su questa questione qui volentieri dico apro il dibattito anche sul discorso patti successori per esempio oggi arriva Roberto certo abbiamo sentito stamattina se io se uno dei paciscenti ha la 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 nazionalità che gli consente diciamo questa scelta ecco che con scelta di entrambe per quella legge è possibile già farli oggi quindi se ho la fidanzata la moglie tedesca insomma posso già pensare di quindi può essere anche per noi un problema attuale ecco qualcuno era anche curioso a dire ma questo lo metto a repertorio tra video mortis causa un patto successorio questo adesso è per poi chi resta alla fine parliamo di questo certo è definito dal regolamento prego mi sembra mi sembra che queste norme transitorie risolvano un problema che a me è capitato e certamente è capitato mille volte dell'olandese residente in Italia che ha beni in Italia e che ha scelto la sua legge nazionale perché il suo diritto internazionale privato lo permette quindi questa è una scelta che oggi in Italia non si sa bene se varrebbe oppure no perché non sta scegliendo la legge del paese di residenza come è possibile sulla base del nostro diritto internazionale privato ma sceglie la legge del suo paese nazionale perché il diritto internazionale privato olandese le permette di farlo e oggi questa scelta ai sensi dell'articolo 83.4 viene salvaguardata mentre fin qui non si sapeva bene che tipo di fondamento una scelta di questo genere avesse nel nostro diritto internazionale privato davanti a un giudice italiano e poi permette oggi di stipulare delle clausole appunto che oggi non sono non sono previste ma lo saranno con efficacia a partire e quindi l'unica l'unica cosa che secondo me è giusta e ragionevole è fate scegliere la legge nazionale assolutamente una scelta di legge se quello è l'orientamento è l'unica cosa che salva in qualunque paese quello che non salva è però ci troviamo qui dopo è nei paesi terzi cioè non è detto che poi quando io ho la residenza abituale in un paese terzo questa scelta della legge nazionale possa essere salvaguardata per tutto quello che esiste là insomma perché di fatto è salvaguardata all'interno degli stati membri ma non nei paesi terzi perché parlava del Tanzania esatto corretto sì questo è vero perché è solo all'interno della comunità che il regolamento esplica il suo valore io proseguo proseguo per dire che in effetti se da un lato il regolamento ha portato chiarezza diciamo ha portato diciamo chiarezza rispetto al fatto della legge applicabile e della successione monistica e quindi ha risolto risolverà una serie di problemi altrettanto non può dirsi per quello che riguarda l'aspetto fiscale perché come è noto non esiste all'interno della comunità nessuna norma che stabilisca dei criteri di collegamento uniformi per quanto riguarda gli aspetti fiscali delle successioni che restano regolati dalle singole leggi nazionali esiste una serie di raccomandazioni della comunità per evitare la doppia imposizione esistono dei trattati contro la doppia imposizione tra alcuni stati ed altri peraltro i trattati sulle doppie imposizioni in tema successorio sono non molti ma restano effettivamente dei problemi che anche a fronte dell'unificazione civilistica della successione lasceranno e lasciano aperto il problema degli aspetti fiscali o del trattamento fiscale della successione io avevo predisposto un piccolo caso franco-italiano ma giusto per evidenziare questo aspetto perché franco-italiano perché spesso con la Francia si hanno relazioni perché tra l'Italia e la Francia esiste un trattato contro la doppia imposizione io vediamo un po' come vediamo un po' scusate allora i coniugi sono dei coniugi francesi i signori Martin che sono da anni residenti in Italia si sono sposati nel 1960 a Nizza hanno fatto una convenzione di separazione dei beni regata regata dal nottaio gentil e hanno tre figli Marc nato nel 65 coniugato e domiciliato in Francia Pierre nato nel 68 e domiciliato in Francia Anna nata nel 70 e domiciliato in Italia Martin aveva una villa a Cannes donata nel 90 a Marco un veliero quote di una société civile immobilière con sede a San Jean Capferrat che non è detto esplicitamente ma con sede a San Jean Capferrat che ha immobili a San Jean Capferrat in Italia aveva con sua moglie acquistato un appartamento a Venezia che contiene numerose opere d'arte i coniugi hanno stipulato in Francia nell'aprile del 2000 una donazione entre époux hanno un conto corrente di discreta consistenza in Spagna dove trascorrono le vacanze e affittano di solito una casa il signor Martin è deceduto il 5 aprile 2012 il signor Martin morirà il 20 settembre del 2015 qual è la fiscalità applicabile? Qual è la fiscalità applicabile? Ecco che uno già si rende conto che sostanzialmente la fiscalità applicabile sia prima che dopo allo stato dell'arte non avrà grandi modifiche nel senso che sebbene cambi criteri di devoluzione civilistici da un punto di vista fiscale allo stato dell'arte noi ci troviamo in una situazione di questo tipo abbiamo una successione di questi signori residenti in Italia voi sapete che per il sistema delle successioni in Italia i criteri di collegamento sono l'imposizione globale per i residenti o il principio dell'imposizione solo limitatamente ai beni esistenti in Italia per i non residenti i signori Martins sono residenti e quindi astrattamente sono soggetti a tassazioni in Italia per tutto il loro patrimonio in Italia e fuori dall'Italia la Francia e l'Italia però hanno stipulato una convenzione contro la doppia imposizione in materia di successione il 20 dicembre del 90 che si applica alle persone che al momento del loro decèi sono il loro domicilio in Italia in Francia e quindi si applica al caso in esame la convenzione dice che gli immobili sono soggetti a tassazione nel paese in cui si trovano le partecipazioni in società aventi oggetto prevalentemente immobiliare sono assimilate agli immobili questo è un aspetto interessante per tutti coloro che in Italia e faccio una divagazione sono alle prese col fisco che spesso si trova a qualificare una partecipazione al 100% di una società trasferita come trasferimento di immobile questo nella convenzione tra l'Italia e la Francia in tema di successioni è detto esplicitamente la partecipazione in società con oggetto prevalentemente immobiliare è assimilata all'immobile i beni invece mobili genericamente sono assoggettati a tassazione nel paese di nazionalità quindi a questo punto noi abbiamo visto qual è la situazione dei nostri signori Martins che hanno una villa accandonata nel 90 Mark che ci interessa relativamente il veliero che a questo punto dovrebbe essere tassato in Italia la casa a Venezia che a questo punto secondo il principio della Lex Reisite sarà tassata in Italia la casa in Italia contiene numerose opere d'arte le opere d'arte a questo punto dovrebbero rientrare nella presunzione di mobili e gioielli secondo il sistema di tassazione italiano e in un certo qual senso sfuggire al principio invece di autonoma tassazione in quanto beni mobili che sarebbe previsto dalla Convenzione per i beni mobili che a questo punto sarebbero tassati secondo la legge di nazionalità e quindi astrattamente soggetti a tassazione in Francia io li ho dati come compresi nella presunzione del 10% di mobili e gioielli e quindi tassati in Italia il conto corrente in Spagna sempre per il principio di tassazione universale sarà invece tassato in Italia e probabilmente mi veniva confermato io questo lo davo come ipotetico anche in Spagna secondo il sistema del diritto successorio italiano l'articolo 26 è prevista una norma di diritto interno che richiama poi la norma che è prevista anche nella Convenzione che prevede una detrazione dall'imposta dovuta in Italia dell'imposta pagata all'estero questa è una norma che noi abbiamo in un certo senso in questo caso siamo avanti rispetto ad altri paesi che tale norma non hanno e quindi in sostanza io pagherò un'imposta in Italia e pagherò un'imposta in Spagna ma dall'imposta pagata in Italia detrarrò l'imposta pagata in Spagna per contro la mia quota di partecipazione nella Société Civile Immobilière con sede a Saint-Jean-Caperra per effetto della Convenzione non sarà tassata in Italia ma sarà tassata sendo assimilata a un immobile solo nel luogo Reissite quindi della Francia e quindi sarà soggetta a tassazione secondo le norme fiscali francese questo così molto rapidamente e molto in soldone ci dà il senso di come quello che apparentemente veniva riportato ad unità nel momento in cui ci si addentra nel mondo invece fiscale venga immediatamente riportato il principio scissionista sostanzialmente in questo caso la Francia lo applica ma comunque il principio scissionista diciamo fiscale è quello che governa il sistema il sistema delle successioni d'altronde è chiaro che non è facile arrivare ad un'armonizzazione in questo momento io credo che noi non vorremmo particolarmente un'armonizzazione fiscale perché l'Italia è considerata in sostanza una CFC delle successioni all'interno dell'Europa perché obiettivamente attualmente abbiamo un trattamento fiscale favorevole che pochi stati pochi stati hanno ma va effettivamente a questo punto va a questo punto effettivamente verificato volta per volta quando si voglia dare un consiglio al cliente da un punto di vista civilistico qual è poi l'aspetto invece fiscale in cui lo stesso si verrà a trovare perché effettivamente uno potrebbe pensare scelgo la legge italiana che bello a questo punto sono soggetto a tassazione secondo la legge italiana no in realtà così non è perché io potrei non essere residente abituale in Italia scegliere la legge italiana ma a quel punto trovarmi tassato secondo le regole fiscali che sono normalmente regole di estrema semplicità e quindi il concetto di residenza è semplicemente il concetto di residenza anagrafica a fronte del concetto di residenza anagrafica io potrei paradossalmente trovarmi in un bisticcio anche tra il concetto di residenza abituale che regola la mia successione dal punto di vista civilistico e il concetto di residenza anagrafica che invece regola la mia successione se ero residente anagraficamente in Italia da un punto di vista fiscale e quindi visto che stamattina ci è stato detto sicuramente la residenza anagrafica è un indice importante anche ai fini della residenza abituale ma paradossalmente mi è sembrato di ben capire e mi sembra che questo sia un principio anche affermato che non necessariamente una residenza anagrafica in un paese esclude l'esistenza di una residenza abituale ai fini del regolamento delle successioni in un altro paese sono effettivamente dei bisticci difficili da comprendere e difficili da accettare però effettivamente se armonizzazione volesse dire in tutti i paesi le aliquote dell'Inghilterra che sono il 40% come voi sapete piuttosto che le aliquote della Francia che sono più o meno in linea le aliquote della Germania che forse sono più basse ma però in certi casi ci si avvicinano le franchigie che sono ben diverse e sempre che ovviamente mentre noi stiamo parlando non venga nel frattempo come è stato da qualche parte paludato reintrodotto anche in Italia una diversa aliquota per le successioni o una modifica delle franchigie fa sì che forse in certi casi questa confusione possa essere ancora valida e accettata soprattutto dal nostro punto di vista sicuramente però non giova alla chiarezza dei rapporti e della circolazione e della circolazione dei beni io continuo a restare a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti grazie c'è più una domanda buonasera senta vorrei sapere la presunzione del 10% dei mobili in questo caso anche se il valore dell'opera d'arte è superiore rientra sempre secondo lei oppure dovrei fare un inventario la norma adesso purtroppo mi scuso perché me ne sono accorto venendo non ho portato con me il testo delle successioni attuali però la norma parla anche quando parla della presunzione del 10% parla anche di beni che sarebbero suscettibili di essere considerati beni culturali o beni di particolare pregio quindi teoricamente dovrebbe ricomprendere qualunque tipo di bene perché anche quindi queste opere d'arte astrattamente intese dovrebbero essere ricomprese sull'argomento effettivamente non esiste una prassi molto chiara parlo in termini proprio pratici e concreti di recente mi è capitato una successione in cui c'erano opere d'arte non soggette al vincolo delle belle arti perché a quel punto avrebbero il loro trattamento con l'articolo 13 e a condizione di essere mantenute eccetera sarebbero escluse dall'attivo ma che effettivamente hanno sicuramente un'importanza o avrebbero un'importanza tale da giustificare un valore superiore alla presunzione però io ho sempre considerato la presunzione in quanto presunzione presunzione a favore e presunzione contro nel senso che se il sistema delle successioni tutto sommato non mi obbliga a indicare i valori immobiliari se non all'interno di un inventario per vincere la presunzione se io accetto il principio della presunzione che peraltro oggi con il meccanismo delle franchigie è un principio bizzarro perché io potrei anche trovarmi ad avere una successione in cui i beni sono solo soggetti a franchigie e quindi grazie quindi qui mi si dice si considerano compresi nell'attivo ereditario denari gioielli e mobiglia per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile l'asso ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore salvo che da inventario analitico non ne risulti l'esistenza per un importo diverso si considera mobiglia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso all'ornamento delle abitazioni compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo quindi sostanzialmente dovrebbe funzionare in questi termini quindi sostanzialmente il principio che io vado ad applicare torno a quello che stavo dicendo nel nostro sistema da CFC se io ho 5 figlie ho 5 milioni di euro di franchigia probabilmente mi trovo anche in una situazione in cui il 10% non scatta per nulla perché come voi sapete il 10% oggi si applica solo sulla quota la successione non è più globale ma è per quote e si applica solo sulla parte di quota che cede la franchigia quindi io potrei trovarmi in questo caso ad esempio essendoci tre figli e una moglie che probabilmente questi beni non hanno neanche una evidenziazione come 10% di mobili e gioielli peraltro il sistema è un sistema di presunzioni le presunzioni sono la bizzarria del nostro sistema fiscale che non si fida del contribuente però in questo caso dovrebbero giocare contro il fisco in un certo qual senso invece in un patrimonio di un valore molto alto il 10% potrebbe essere eccessivo allora io ho interesse a fare l'inventario io l'ho fatto in alcuni casi in questo caso rispondo praticamente in questo caso io ho suggerito agli eredi di fare l'inventario e loro mi hanno detto che non intendevano fare l'inventario perché se ne guardavano bene proprio per il rischio che questi beni venissero valutati in maniera superiore a quello che sarebbe il 10% ok paradossalmente poi prego nella domanda ecco allora continuiamo secondo il programma e adesso mi raccomando concentrazione perché assisteremo qui a un saggio di meccanica tedesca quindi sempre nel maggiore livello l'applicazione del regolamento sulle successioni in Germania e siccome c'è una proposta molto articolata appunto per questo richiamo la vostra attenzione ne parla il professor Peter Kingler che è professore di diritto privato internazionale di diritto comparato all'università di Monaco ottimo conoscitore dell'Italia e della lingua italiana ma che credo per motivi di etichetta adesso ci espone in inglese la sua relazione grazie ringrazio la fondazione italiana del notariato per l'ospitalità riservatoci in particolare i colleghi barone Pasqualis non c'è pericolo che scenda nei abissi della meccanica mia figlia sta studiando ingegneria edile e io non capisco niente di quello che sta facendo quindi rimaniamo sul piano giuridico per un tedesco via Flaminia è senz'altro una zona speciale di Roma siamo vicini a Piazza del Popolo a due passi dalla casa di Goethe il poeta dal 1786 fino al 1788 visse a Roma lavorando il suo diario che divenne poi parte del libro Viaggio in Italia e sappiamo che era entusiasta dell'Italia ma anche che la frenetica vita che si svolgeva per le strade romane lo scombusolava ed era anche preoccupato per i numerosi omicidi che si verificavano nella zona ovviamente il nostro incontro a Roma 230 anni dopo protetto dall'ospitalità della fondazione italiana del notariato promette di essere un po' più tranquillo e ne siamo molto grati io vi parlerò dell'implementazione del regolamento sulle successioni internazionali in Germania in primavera il ministero di grazia e giustizia tedesco ha pubblicato il progetto di una legge sulle procedure in materia di successioni internazionali come già stato accenato parlerò in lingua inglese forse ho capito male la regia del nostro incontro ma comunque per motivi diplomatici lo faccio anche molto volentieri potete rivolgermi eventuali domande o interventi senz'altro anche in lingua italiana ecco with the magic date of 17 August 2015 approaching the German Federal Ministry of Justice has published a proposal for an International Succession Law Procedure Act I call this ISLPA and this act is contained in Article 1 of a more complex framework act i.e. the proposed Act on International Succession Law and on the amendment of provisions on the Certificate of Inheritance this broader law also addresses some substantive law issues and repeals the autonomous conflict of law rules the new International Succession Law Procedure Act largely follows the example of an earlier act on recovery of maintenance in relation with foreign states by which the German legislator implemented the EC regulation number 4 of 2009 there is also an International Family Law Procedure Act of 2005 by which the German legislator implemented important EU regulations in this field the proposed framework law comes into force on 17 August on the day the succession regulation becomes applicable this date applies for the new proposed International Succession Law Procedure Act and the single amendments to numerous other acts so this is where we see the general outline of the new law there are two major issues outside the new law they regard the traditional conflict of law rules we have in Germany there are two types of intervention the first one is to repeal the domestic conflict of law rule we have to date this is laid down in article 25 and under article 25 of the introductory act to the civil code succession is governed by the law of the country of which the deceased was a national so the principle you have in Italy and we have in many other states as to immovables located within the country the testator may in the form of a testamentary disposition to choose German law and these rules also apply to matters related to succession related to a registered life partnership between two persons of the same sex now for reasons of clarity these provisions are to be repealed by the proposed act of international succession law from 17 august 2015 on there is no room for any domestic conflict of law rules in the member state the second aspect deals with the formal validity of dispositions of property upon death it is related to what we heard from our colleague Danila this morning pursuant to article 27 of the regulation a disposition of property upon death made in writing shall be valid as regards form of its form if its form complies with the law indicated by a broad variety of connecting factors such as the state in which the disposition was made the nationality of the testator the domicile or habitual residence of the testator the location of immobile property and so on now as pointed out in article 75 of the regulation the regulation should not affect the application of international conventions to which one or more member states are party in particular member states which are contracting parties to the Hague Convention of 1961 on the conflict of laws relating to the form of testamentary dispositions shall continue to apply the provisions of that convention instead of article 27 of the regulation with regard to the formal validity of wills and joint wills the proposed reform does not affect these provisions and the report refers explicitly to article 75 of the regulation the Hague Convention does not refer to agreements as to accession so to Erbvertrag pato succesorio article 27 of the regulation does so in this regard article 75 of the regulation leaves no room for domestic provisions or conventional rules and this is why article 26 of our law has been modified currently that provision declares the conflict of law rules on wills also applicable to agreements as to succession the proposed new version of article 26 of our introductory law simply clarifies that the law applicable to the formal validity of agreements as to succession is determined by article 27 of the regulation so we are going to have a kind of what Eric James would call a narrative norm a norm that simply says look out judges look out notaries there is a regulation at the EU level that is dealing with the applicable law as to form as far as agreements to succession is concerned last aspect here regards the substantive validity of a disposition on property upon death according to article 26 paragraph 5 of our introductory law this aspect is governed by the law which would have been applicable to the succession at the time the disposition was made this provision refers to the hypothetical succession rules that's what you call in French law successorial ipothetique in German in Richtung Statut in italiano non lo so la legge ipothetica si dice legge la legge che sarebbe applicabile al momento della stesura del testamento now according to the proposal article 26 paragraph 5 has to be repealed because the succession law itself indicates the law applicable to the substantive validity of a will referring also to the hypothetical succession rules this is laid down in article 24 paragraph 1 of the succession regulation now let's have a closer look at the proposed law on international succession law procedure act in a general overview we can say that there are six divisions one on the scope of application civil disputes enforcement and recognition of foreign decisions then there are two chapters we're going to have a closer look on regarding the reception of declarations appropriation right in case of states without a claimant and the European certificate of succession the last chapter deals with authenticity of instruments now first aspect I want to have just a brief glance on is dealing with the venue the territorial jurisdiction the basic rule is that there is territorial jurisdiction with the court of the last habitual residence of the deceased whenever the general international jurisdiction of the German courts follow from article 4 of the regulation so in the internal relations the German legislator intends to follow the same criterion we have at the international level on the grounds of article 4 of the regulation only in certain cases territorial jurisdiction lies with the court in whose district the deceased had his last habitual residence in Germany section 2 number 2 of the proposed law refers to this criterion if German courts have international jurisdiction in accordance with article 7 of the regulation we are talking about the territorial jurisdiction of German courts the basic rule is that the territorial jurisdiction within Germany is determined by reference to the last habitual residence of the deceased whenever the general jurisdiction of the German courts follows from article 4 of the regulation so we have the same criterion for the international competence in certain cases territorial jurisdiction lies with the court in whose district the deceased has his last habitual residence in Germany so the situation is as follows the last habitual residence was somewhere outside Germany but previously the decoyus had an habitual residence in Germany under section 2 number 2 of the proposed law we have a reference to this criterion if German courts have international jurisdiction in accordance with article 7a of the regulation under this provision the courts of a member state whose law has been chosen by the deceased pursuant to article 22 shall have jurisdiction to rule on the succession if a court previously seized has declined jurisdiction in the same case pursuant to article 6 the last habitual residence of the deceased in Germany is also the criterion for determining the territorial jurisdiction in case of a subsidiary international jurisdiction based on the location of assets of the deceased in Germany and in case of a forum necessitatis if the deceased never had habitual residence in Germany territorial jurisdiction lies with the Schöneberg local court in Berlin so there is some Berlin court which in the end has the territorial jurisdiction the law also refers to choice of court agreements and primarily points to the court the parties agreed upon in the case of an international choice of court agreement which confers jurisdiction on the courts of Germany without indicating any specific court that also seems to happen in the eyes of the EU legislator the same rule applies the general principle applies primarily the last habitual residence criterion oh here we are again we go on we proceed now and leave the territorial jurisdiction issues as regards the enforcement and recognition of foreign decisions related to one of the chapters of our regulation section four of the proposed ISPLA says that if the application is not drawn up in German the court may require the applicant to furnish a translation that confirms the correctness of which has been confirmed by a person who is qualified to do so in a member state this goes beyond the EU service regulation under which the addressee of a document to be served may refuse to accept it at the time of service or by returning the document to the receiving agency if it is not written in or accompanied by a translation into a language which the addressee understands or the official language of the member state addressed so in our context it is the German court that can refuse reject the application and under the service regulation it is less strict it is the addressee that has the possibility to reject the document the next chapter is dealing with the acceptance or waiver of a of the succession this refers to article 13 of the regulation under this provision the courts of the member state of the habitual residence of any person who under the law applicable to the succession may make before a court a declaration concerning the acceptance or waiver of the succession of a legacy or of a reserved share shall have jurisdiction to receive such declarations such jurisdiction requires that under the law of that member state such declarations may be made before a court and the same rule applies to a declaration designed to limit the liability of the person concerned in respect of the liabilities under the succession in the recitals we read that this jurisdiction was created in order to simplify the life of heirs and legatees habitually resident in a member state other than that in which the succession is being or will be dealt with so for example a situation where the succession is opened in Italy because the last habitual resident of the was in Italy but one of the prospective heirs has his habitual residence in Germany then this person can go to the German court and declare a waiver or the acceptance of the succession it is now up to the person choosing to avail themselves of the possibility to make declarations in the member state of their habitual residence to inform the court authority which is or will be dealing with the succession of the existence of such declarations so in my example it would be up to the person that addresses the German court to inform later on the Italian court look I have declared a waiver or I have declared the acceptance of this succession in Germany strangely enough there is no obligation under the regulation of the court receiving the declaration to inform the courts which are dealing with the succession of the declaration made so in my example the German court would have no obligation to inform the Italian court no communication between the courts and this is why section 31 of the proposed German law obliges the German court to issue a confirmation of the moment and the contents of the declaration of its own motion so the person who has declared the acceptance or waiver may use it to inform the courts which are dealing with the succession of the declaration made another interesting aspect is the appropriation right in case of estates without a claimant the situation is very simple we have a succession regulated by the laws of state A and assets located in the territory of state B under article 33 the regulation if under the law applicable to the succession in my example under the laws of state A there is no heir or no legative for any assets under a disposition of property upon death and no natural person is an heir by operation of law the application of the law so determined shall not preclude the right of a member state state B in my example to appropriate under its of the state located on its territory the appropriation right is subject to the creditors being entitled to seek satisfactions of their claims of course Now in German substantive law up to date the appropriation right of the state in case of estates without claimant is laid down in the civil code this provision applies only when German law is applicable to the succession if foreign law applies there is no appropriation right and section 32 of the proposed new law is creating such an appropriation right there's a delicate question maybe one of the most interesting questions related to this act with regard to the appropriation right the regulation excludes national appropriation rights also in case there is a legatee and this can only mean a legacy which the assets by which the assets are transferred to the legatee that is to say with effects in rem this is the case under French law Italian law but not under German law under German law the legatee only has an obligation claim against the heir to transfer of ownership of the assets furthermore in the past German courts did not recognize the transfer of title related to a foreign law legacy the legislator expects that also under the regulation they will adapt such legacy in conformity to article 31 of the regulation and treat it as a legacy with merely obligational effects this position of German authorities is based on article 1 paragraph 2 letter k of the regulation under which the nature of rights in rem shall be excluded from the scope of the regulation this argument is not entirely convincing a legacy in rem is not a right in rem it is simply a way to acquire title as also put down in article 922 of the Italian Civil Code for example and as such it is regulated by the law applicable to the succession the next broader aspect is the European Certificate of Succession it is dealt with by division 5 of the proposed law the second largest division of this new project before going into the details of division 5 of the proposed law I should like to draw the reader's attention to the amendments to the provision of the Civil Code referred to the Certificate of Inheritance the so-called Erbschein we already heard about today these amendments are not contained in the new law itself but in section 16 of the framework law some provisions are transplanted are shifted from the Civil Code to the Voluntary Jurisdiction Act as to substance however no change is planned under article 62 the regulation makes clear that the European Certificate of Succession shall not take the place of internal documents used for similar purposes in member states for example the German Erbschein in future the German Erbschein Certificate of Inheritance and the European Certificate of Succession will coexist is true also for other jurisdictions now there are some differences important differences as to the effects of the certificates especially in relation to the protection of third parties such as a bank where the deceased held a bank account under article 69 paragraph 2 of the regulation the person mentioned in the European Certificate of Succession as the heir shall be presumed to have the status mentioned in the certificate and or to hold the rights or the power stated in the certificate furthermore pursuant to article 69 paragraph 3 of the regulation any person who acting on the basis of the information certified in a certificate such as the bank where the deceased held an account makes payments to a person mentioned in the certificate as authorized to accept payment or property shall be considered to have transacted with a person with authority to accept payment or property and finally under article 69 paragraph 4 of the regulation where a person mentioned in the certificate as authorized to dispose of succession property disposes of such property in favor of another person that other person shall if acting on the basis of the information certified in the certificate be considered to have transacted with a person with authority to dispose of the property in both cases article 69 paragraph 3 and 4 of the regulation and this is the important difference with respect to German law there is no protection of the third party or there is no protection if the third party knew that the contents of the certificate was not accurate or was unaware of such inaccuracy due to gross negligence this is the key term gross negligence leads to the negation of protection of third parties under European law and as we see under German law this is different under German law the protection of the third party goes further there is no investigative requirement for the third party regarding the accuracy of the German certificate even gross negligence regarding the inaccuracy of the certificate of inheritance does therefore not exclude the third party's protection if a person acquires from the person named in the certificate of inheritance as heir an asset forming part of the estate the contents of the certificate of inheritance are deemed in his favor to be correct unless he knows of the incorrectness or knows that the court has demanded the return of the certificate of inheritance for incorrectness and the same rule applies in case of a payment that has been affected to the person named as heir in the certificate of inheritance the idea is simply that this certificate is highly trustworthy because it is issued by a court on the grounds of a formalized procedure so these differences show or these rather far reaching provisions we can say as to third party protections are not subject to any modifications in in the proposed framework law so in future we're going to have two regimes in Germany one of the ECS the European certificate with a restricted protection for third party and the German Erbschein with broad protection the consequence is that in the case of assets located in Germany the incentive for the applicant is rather to request the issuing of a German Erbschein than of a European certificate of succession obviously a German bank would rather rely on a German Erbschein than on an ECS why is that so in the case of the German certificate they do not have to inquire into the situation of the succession in case of a European certificate the question is always do I act in gross negligence if I pay to the person that presents me this certificate so I do not see a great future for the European certificate of succession as far as assets located in Germany are concerned as to territorial jurisdiction I think we can skip this slide it is basically referring to the general rule we heard already that resorts to the habitual resident of the deceased again in this context as regards a request for a European certificate of succession the law gives the courts the possibility to ask for a translation whenever the application is not drawn up in Germany and this is maybe a question that I would like to ask later to our Spanish friend if there are any modules any preparations in the commission to create standard texts for these requests the next topic regards the statutory declaration in lieu of oath maybe this is not too interesting maybe just the last four lines we have a rather severe punishment whenever there is a wrong declaration in lieu of an oath the punishment will be imprisonment non exceeding three years or a fine so you have to be careful when lying to German authorities about the succession situation the last aspect and that comes back to the in rem problems is again related to legacies article 69 paragraph 5 I think Stefania already pointed out that there was a problem related to 69 paragraph 5 is dealing with the European certificate of succession and says that this ECS shall constitute a valid document for the recording of succession property in the relevant register of a member state for example the land register in Germany the Grundbuch this is a system which is similar to the one you have in in Italy to date the German Land Register Act requires that the registration of the heir of the deceased owner of a piece of land to prove the succession by presenting a certificate of inheritance so he has to present an erbschein the proposed amendment of that provision includes also the European certificate of succession we have here rather strange provision a kind of transposition of a European norm the idea is obviously to make it clear to the German judge that besides the erbschein there's also the possibility to prove the new legal situation by reference to a European ECS again in this context and majorly in this context we have the problem related to legacies no amendment has been proposed with respect to article 63 paragraph 2 point B of the regulation according to this provision the certificate may be used inter alia to demonstrate the attribution of a specific asset forming part of the estate to the heirs or as the case may be the legacies mentioned in the certificate so to prove that some immovable located in let's say Munich was passed on to me on the grounds of a legacy legato this article of the regulation does not reflect or does not take into consideration that under some jurisdictions like under German law these legacies do not have any effect in REM according to the authors of the proposal such dispositions have no effect in REM if the immovable asset is situated in Germany and this is why the land register act is not subject to any amendment in this regard in short German courts do not intend to apply article 69 paragraph 5 as far as legacies are concerned like Italian law legacies or French law legacies by which immediately property passes on to the beneficiary let's make this example to make clear what the problem is in the land law cases we have an Italian national which uses Italian law as the law to govern his succession he does so because he lives in Germany and he wants to avoid the German substantive law governs his succession with regard to immovable property located in Germany the will contains a legacy in favor of his aunt as defined in article 649 of the Italian Civil Code that says in English if the object of the legacy is the property of a specific asset or another right belonging to the testator such property or right passes from the testator to the legate at the moment of the death of the testator in German law the legate has only an obligation right against the heir so this is a fundamental difference with respect to this institution currently German courts would not accept the effect of such a legacy the deceased on the legate in my example would have to claim the transfer of the property from the heirs you might say well this is a technical question in practice it is not because in the meantime the heirs could dispose of the property and they would be liable only to damages vis-a-vis the legate also 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 creditors of the heirs could seize the object and again the legate would only have an obligational claim so we see that this is a fundamental divergency we have in Europe and obviously the regulation could not resolve it because we're talking about substantive law questions now my summary consists of nine points I just go with you through the three most important points in my view number one it is welcome that the proposed reform repeals the principal domestic conflict of law rule and restricts the scope of application of a further conflict of law rule for matters of forms to wills leaving agreements as to succession to the regulation I think it is a good idea to delete to repeal the autonomous conflict of law rules not every member state goes so far I have seen maybe I'm wrong in Italy sometimes you do not even delete or abrogate the conflict of law rules although there are EU regulations number two this is point six in my list here again the ESC in my eyes an important issue and the EC is less protective vis-a-vis third parties than a German certificate of inheritance and the German law third party acquiring title from or making a payment to a person erroneously classified as heir in the certificate is protected even in case of gross negligence so I can rely blindly on the contents of such a certificate with respect to assets located in Germany the heir will rather request the issuing of a German erb than of an ECS at least the bank will tell him to do so last aspect point nine as to recording of succession property in the land register the ECS is treated equally to the German certificate of inheritance it must be criticized that also in this regard German law denies the effect in rem of foreign law legacies related to assets located in Germany I think this position is not covered by the regulation and by recital number 15 this is all thank you very much for your attention and I am hopeful to have a good discussion with you thank you grazie cosa vi avevo detto ecco qua allora adesso se non ci sono domande qui se noi le lasciamo in fondo andiamo ai rapporti con gli stati terzi che è un gran bel tema anzi qui adesso ci apriamo a scenari ancora più vasti la professoressa stefania variati che abbiamo già presentato stamattina e che qui alla quale quindi noi immediatamente la parola grazie grazie è un tema vasto è un tema affascinante è un tema difficile abbiamo cominciato a ragionare sulla base delle disposizioni del regolamento non ho risposte quindi porrò delle domande e delle delle domande e non so bene poi le risposte quali saranno possiamo ragionarci insieme possiamo lasciare i temi aperti la prima nelle mie slide trovate appunto le norme cose molto semplici le norme sulle quali vorrei ragionare e qualche domanda quindi se anche salta tutto il sistema ce lo possiamo fare ugualmente allora primo punto ed è un punto che è rimasto un po' sotto traccia tutto il pomeriggio ed è l'ambito di applicazione del regolamento dal punto di vista soggettivo cioè delle persone che sono coinvolte che cosa significa successioni con implicazioni trasfrontaliere che ritorna in alcune disposizioni del regolamento e che è cruciale per capire poi i rapporti con stati terzi oltre che appunto l'ambito di applicazione generale del regolamento e quindi in quale misura vengono superate o sostituite le norme nazionali in materia di giurisdizione e leggi applicabili allora il primo punto è che il regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire la compatibilità come tutti i regolamenti che sono emanati sulla base dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea la compatibilità delle norme applicabili negli stati membri in materia di conflitti di legge e di giurisdizione e qui abbiamo in questo regolamento una serie di principi che attengono al mercato interno e che devono guidare nell'interpretazione del regolamento il primo è il considerando numero 7 quando mi dice che bisogna contribuire al corretto funzionamento del mercato interno che è una delle condizioni per l'applicazione dei regolamenti dell'articolo 81 rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni trasfrontaliere e poi però mi dice i cittadini devono poter organizzare in anticipo la loro successione qui io ho una distinzione tra persone qualsiasi e cittadini non si sa bene di quale è stato ma soprattutto tra due categorie di persone diverse o di soggetti o di individui diversi cioè in primo luogo persone qualsiasi che devono poter asserire e quindi esercitare i loro diritti nell'ambito di una successione quindi saranno gli eredi i legatari i creditori e chi altro e poi invece i cittadini che hanno il diritto di organizzare la loro successione in anticipo il considerando 37 ci dice poi che qui torniamo ai cittadini che i cittadini devono poter beneficiare dei vantaggi offerti dal mercato interno e in questo ci dice che bisogna avere norme armonizzate e così via il 38 di nuovo ci riporta i cittadini che dovrebbero poter organizzare la successione scegliendo la legge applicabile e così via allora perché in queste disposizioni si parla di cittadini se il collegamento principale su cui si fonda il regolamento è la residenza abituale del defunto e il riferimento di cui si tratta qui è un riferimento che si rivolge solamente ai cittadini europei oppure si rivolge a categorie più ampie secondo me qui la risposta è abbastanza facile e cioè la parola cittadini mi spiace che non ci sia più Domenico Damascelli il termine cittadino potrebbe essere equiparato con individuo ma certamente non cittadino europeo nel senso di cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea tanto è vero che poi la norma sulla scelta della legge applicabile che abbiamo visto questa mattina è una norma che permette di scegliere la legge della cittadinanza quale che sia questa cittadinanza cioè io posso scegliere anche la mia cittadinanza se sono cittadina degli Stati Uniti piuttosto che se sono cittadino brasiliano quindi è evidente che questo cittadino è un termine a tecnico da questo punto di vista e non cittadino dell'Unione Europea non solo ma se noi guardiamo a quello che si è detto finora e a quello che la Corte di Giustizia ci ha detto in tutti questi anni in materia di doppia cittadinanza il considerando 41 ci precisa che in caso di pluralità di cittadinanza si devono applicare le norme interne soprattutto nel rispetto dei principi generali dell'Unione Europea e in questo settore la Corte di Giustizia ha detto che le cittadinanze degli Stati membri sono tutte uguali e quindi il soggetto che ha più cittadinanze di più Stati membri può scegliere una taluna qualsiasi di queste e per il resto si applicano le norme nazionali e qui potrebbe venire in considerazione l'articolo 19 della nostra legge 218 che tra più cittadinanze indica una serie di principi che si applicano quando la cittadinanza italiana concorre con la cittadinanza di un paese terzo oppure con la cittadinanza di uno Stato membro che viene equiparata alla cittadinanza italiana proprio dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia io qui sono convinta che dal punto de jure condendo nel momento in cui o meglio in assenza ancora di sentenze della Corte di Giustizia chiare su questo punto nel momento in cui questo soggetto ha la cittadinanza di uno Stato membro e di uno Stato terzo il regolamento e la modalità di redazione del regolamento l'effetto erga omnes del regolamento portano a concludere che questo soggetto debba poter scegliere anche la cittadinanza dello Stato terzo e non solo quella dello Stato membro in altre parole se il soggetto è cittadino italiano e cittadino brasiliano secondo me deve poter effettuare una scelta a favore della legge brasiliana e quindi non essere vincolato dall'articolo 19 della legge 218 questa però è per ora un'opinione personale che secondo me garantisce il rispetto della volontà del testatore così come è espresso all'interno di questo regolamento la seconda domanda da che mi pongo è se esiste una preferenza per i cittadini europei o per gli individui residenti abitualmente in Stati membri all'interno di questo regolamento in modo da creare anche qui una distinzione un privilegio a favore di soggetti che appartengono in un modo o nell'altro agli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione Europea per me qua la risposta è non in linea di principio è evidente che però i cittadini europei cioè i soggetti che hanno la cittadinanza di uno degli Stati membri possono usufruire dell'articolo 10 abbiamo visto anche se velocemente ci torniamo tra poco il criterio di giurisdizione sussidiaria che si fonda sulla nazionalità del decuius e i soggetti invece gli individui che sono abitualmente residenti in uno Stato membro indipendentemente dalla cittadinanza hanno effettivamente una serie di procedure e di strumenti che sono espressi nel regolamento e che garantiscono la cooperazione tra le autorità non ultimo anzi forse primo il riconoscimento delle decisioni e del certificato ma anche per esempio il diritto la possibilità diritto la facoltà di effettuare dichiarazioni nel paese di residenze della loro residenza abituale anche se non è il giudice competente a decidere della successione o l'autorità competente a decidere della successione ai sensi dell'articolo 4 e tutti questi regolamenti mi dicono che il regolamento ha una visione unitaria della successione e cioè che la legge applicabile ai fini designata dal regolamento si applica a tutta la successione indipendentemente dalla localizzazione dei beni e anche se sono localizzati in un paese terzo e qui veniamo a cominciare a definire che cosa significa paese terzo cosa significa paese membro ai sensi del regolamento allora cosa significa stati membri l'abbiamo già visto qualcuno l'ha già detto prima sono esclusi il Regno Unito l'Irlanda e la Danimarca e questo è espresso ne considerando 82 e 83 del regolamento non c'è in questo regolamento una frase come c'era nel regolamento 44 2001 sulla giurisdizione e riconoscimento delle sentenze che diceva all'interno del regolamento era l'articolo 1 paragrafo 3 che in questo regolamento il termine stato membro significa tutti gli stati membri tranne la Danimarca quindi qui non c'è un'esclusione chiara con una disposizione c'è un'esclusione solamente a livello di considerando ma la soluzione la situazione non cambiano affatto uno stato con cui certamente quindi questi stati non sono stati membri essensi del regolamento cioè non sono vincolati dal regolamento e non subiscono nessun effetto per l'applicazione del regolamento e quindi sono come stati terzi sono come la Svizzera gli Stati Uniti il Brasile e così via gli altri 150 stati o 190 stati del mondo ci si può chiedere se la Svizzera intenderà partecipare al regolamento o meglio stipulare una convenzione parallela al regolamento che permetta l'applicazione del regolamento e l'armonizzazione delle disposizioni poiché è evidente che i rapporti con gli stati membri e con alcuni stati membri in particolare penso alla Germania all'Austria all'Italia alla Francia che sono gli stati confinanti renderebbe l'applicazione e l'estensione del regolamento molto interessante non solo per la Svizzera ma anche per questi Paesi membri questa possibilità è stata avanzata dalla Svizzera ed è registrata in alcuni atti preparatori della riforma del regolamento in solvenza perché anche in quel settore la Svizzera pare interessata ad avvicinarsi per il regolamento successioni a mia conoscenza non se ne è parlato e poi nelle more di questi discorsi è intervenuto il regolamento Bruxelles 1 bis che ha visto la modifica del regolamento Bruxelles 1 senza che la Svizzera sia mai stata invitata neanche a sedersi al tavolo e a conoscere quali erano gli sviluppi del regolamento Bruxelles 1 e quindi la Svizzera si è molto offesa e anche per il regolamento Bruxelles 1 bis l'estensione non è chiara certo che se ci fosse secondo me la possibilità di con una convenzione di estendere l'applicazione del regolamento alla Svizzera sarebbe utile sotto molti profili che cosa ci dice ed è qui che veniamo a un punto cruciale secondo me cioè che cos'è una successione con implicazioni trasfrontaliere e che cos'è una successione quando il considerando 67 mi dice affinché una successione con implicazioni trasfrontaliere all'interno dell'unione sia regolate eccetera eccetera io mi domando quali sono gli elementi e se il regolamento si applica solo alle successioni che hanno implicazioni trasfrontaliere all'interno dell'unione cioè io trovo una incoerenza in questi considerando che si muovono da aspetti interni aspetti intreeuropei meglio e aspetti esterni perché è evidente che il riferimento e la possibilità di scegliere la legge applicabile come legge di uno stato terzo e il riferimento all'applicazione del regolamento attraverso il criterio dell'articolo 10 della giurisdizione sussidiaria anche a casi in cui il defunto il decuius aveva la residenza abituale in uno stato terzo allargano questa nozione di implicazioni trasfrontaliere quindi quando abbiamo queste indicazioni di implicazioni trasfrontaliere all'interno dell'Unione è evidente che non sono solo quelle che vengono in considerazione quindi secondo me si applica certamente a casi con implicazioni trasfrontaliere all'interno dell'Unione ma certamente anche a casi con implicazioni trasfrontaliere tra uno stato membro ai sensi del regolamento quindi tutti tranne quei tre e uno stato terzo ed evidentemente anche ai casi che hanno a che vedere in un modo o nell'altro con il Regno Unito l'Irlanda e la Danimarca passerei velocemente in rassegna le norme che abbiamo visto in parte questa mattina guardandole sotto il profilo degli stati terzi e quindi delle implicazioni quando il caso presenta collegamenti con stati terzi vi dico nuovamente si tratta di osservazioni veramente molto preliminari e mi aspetto che lo svolgimento della ricerca ci darà motivo per ragionare ulteriormente e rispondere a qualcuna di queste domande allora abbiamo visto stamattina ce l'ha detto Domenico il regolamento ha applicazione universale quindi anche quando la legge che si applica è la legge di uno stato terzo e la legge è quella del via principale del paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte e infatti l'articolo 21 criterio generale non mi dice la legge applicabile alla successione quella dello stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale ma mi dice è la legge del paese in cui il defunto e basta aveva la propria residenza al momento della morte quando io applico questa disposizione in una situazione in cui il giudice dell'Unione Europea è competente ricordatevi abbiamo detto questa mattina che il regolamento cerca di raggiungere come obiettivo la coincidenza tra foro e diritto quindi il criterio principale di residenza è il criterio il criterio principale di giurisdizione è il criterio della residenza abituale quindi io applicherò la legge di un paese terzo quando il defunto non aveva la residenza abituale all'interno di uno degli stati membri perché se aveva la residenza abituale è competente il giudice la residenza abituale all'interno dello stato membro che applicherà la propria legge e come vedremo questa giurisdizione che è il criterio sussidiario di giurisdizione si verifica quando ci sono dei beni situati in uno stato membro e il defunto aveva era cittadino di questo stato membro o aveva avuto in passato in un periodo di tempo determinato la residenza abituale in uno stato membro oppure io applico la legge di uno stato terzo quando il defunto ha scelto la sua legge nazionale e quindi è un cittadino di uno stato membro abbiamo detto ha magari più cittadinanze tra cui la cittadinanza anche di uno stato terzo e dichiara che la legge di questo paese terzo si applica per regolare la sua successione la legge la legge di uno stato terzo viene in considerazione anche e l'abbiamo visto prima quando io devo determinare la validità formale delle disposizioni testamentari o disposizioni a causa di morte che siano fatte per iscritto perché l'articolo 27 stabilisce una serie di criteri di collegamento ispirati al favore per la validità formale del testamento perché sono dei criteri assolutamente alternative quindi potrò guardare la legge del paese in cui l'atto di disposizione è stato fatto o l'accordo sulla successione è stato concluso quando è stato fatto in un paese terzo la legge di cittadinanza la legge del domicilio al momento della disposizione o al momento della morte la residenza abituale del testatore o di una delle persone di cui si tratta in caso di accordo e per quanto riguarda gli immobili la legge del paese in cui l'immobile è situato e quindi evidentemente anche la legge di un paese terzo vi risparmio l'articolo 28 e l'articolo 30 e passo invece all'articolo 34 sul rinvio perché questa è una disposizione di cui ci ha parlato domenico questa mattina ed è una disposizione che attua e accoglie il rinvio solo ed esclusivamente quando la legge che sarebbe applicata in prima battuta sulla base del regolamento è la legge di uno stato terzo quindi una disposizione importante nel valutare i rapporti con gli stati terzi il considerando 57 ci dice che questa disposizione sul rinvio è volta a garantire la coerenza internazionale ce lo scrive nero su bianco io però trovo non tanta coerenza quando vedo che se se il paragrafo B del comma scusate la lettera B del paragrafo 1 segue un po' il nostro articolo 13 delle preleggi in cui mi fa scattare il rinvio dalla legge di un paese terzo alla legge di un altro stato quale che sia ma sempre terzo che voglia applicarsi quindi che intenda accogliere il rinvio il rinvio altrove accettato lo chiamiamo noi invece mi lascia un po' perplesso dal punto di vista della coerenza internazionale quando il rinvio è alla legge di uno stato membro quale che sia quindi anche quando lo stato membro in realtà questo rinvio non lo accettasse però questo fa parte di un tentativo probabilmente di tornare verso la legge degli stati membri e di evitare l'applicazione della legge dello stato terzo il caso forse tipico a cui avevano fatto riferimento è la situazione in cui il riferimento alla legge del paese terzo mi porta in un paese che ha un collegamento diverso da quello della residenza abituale evidentemente il collegamento è la cittadinanza quindi è il funzionamento opposto rispetto al rinvio che noi abbiamo conosciuto fino adesso posto proprio che il criterio di collegamento è invertito rispetto a quello che non abbiamo avuto e poi il rinvio è escluso in alcuni casi vediamo come funzionano queste disposizioni sulla legge applicabile incrociate con le disposizioni sulla giurisdizione e la prima sulla quale volevo fermarmi è la disposizione sull'accordo di scelta del foro e qui il discorso diventa complicato proprio per il tentativo di capire qual è l'ambito di applicazione del regolamento dal punto di vista soggettivo l'articolo 5 mi dice che le parti cioè quelli che sopravvivono quelli che ci sono non quello che non c'è più il defunto non è parte a tutta questa vicenda successiva alla sua morta quindi le parti gli eredi i legatari i creditori le parti alla controversia possono scegliere il giudice competente purché si tratti dello stesso giudice o del giudice del paese la cui legge è stata scelta dal defunto e questo fa riferimento esclusivamente agli stati negli la domanda è ma le parti non possono scegliere il foro di uno stato terzo possono scegliere il foro di uno stato terzo oppure no il criterio di giurisdizione della residenza abituale del regolamento è un criterio che si impone e che quindi determina l'ambito di applicazione del regolamento oppure no il regolamento si applica solo ed esclusivamente se il defunto aveva la residenza abituale in uno stato membro oppure no la risposta sembrerebbe di no cioè mentre nel regolamento Bruxelles 1 tanto per fare un esempio noto e antico il criterio di applicazione generale del regolamento e quindi della convenzione di Bruxelles prima era il domicilio del convenuto e da lì si partiva qui invece non esiste un criterio di applicazione generale fisso cioè la residenza abituale del defunto tant'è vero che io ho delle disposizioni articolo 10 e 11 che stabiliscono ben altro cioè che dicono quale giudice è competente quando il defunto aveva la residenza abituale altrove quindi è evidente che la residenza abituale del defunto ha una funzione ben diversa e l'ambito di applicazione del regolamento è tendenzialmente universale tra virgolette anche quando il defunto non aveva la residenza abituale cioè io determino e indico almeno alcuni fori e lo faccio nel caso in cui il defunto avesse la residenza abituale al di fuori degli stati membri quindi sulla base di questo ragionamento cosa succede se le parti incontroversi ascergono il giudice di uno stato terzo possono farlo o non possono farlo possono farlo nel senso del regolamento o possono farlo sulla base della legge nazionale come valuto questa scelta del giudice di uno stato terzo ipotizziamo che appunto il defunto fosse avesse la sua residenza abituale in uno stato membro e le parti scelgano come giudice competente il giudice inglese che è giudice di uno stato terzo in questo caso noi sappiamo che ai sensi del regolamento brussellino la corte di giustizia aveva reso una sentenza molto importante che è la sentenza ovusu in questa sentenza la corte di giustizia aveva detto se esiste il foro del domicilio del convenuto in uno stato membro quel foro deve essere rispettato anche se esiste un altro criterio di giurisdizione in un paese terzo quindi se noi lo trasponessimo direttamente nel nostro caso la presenza della residenza abituale del defunto in uno stato membro escluderebbe di per sé che le parti possano scegliere un foro diverso in uno stato terzo per decidere la loro controversia io sono un po' perplessa su questa soluzione che trovo draconiana e che il regolamento non mi dice esplicitamente per una serie di motivi il primo motivo è che il criterio del domicilio del convenuto del regolamento brussellino e di ovusu è un criterio molto più rigido rispetto ai criteri di applicazione di questo regolamento che come ho detto non si applica solo quando il defunto aveva la residenza abituale in uno stato membro ma anche quando aveva o dei fori che si applicano anche quando ha residenza in un paese terzo in secondo luogo in ovuso il rapporto era tra il foro del domicilio del convenuto e un foro speciale quello dell'illecito il regolamento brussellino non dice nulla ma non esclude la validità sulla base delle leggi nazionali del foro prorogato e quindi a sensi del regolamento brussellino se le parti scegliono il foro in un paese terzo non è che si applica comunque il foro domicilio del convenuto ma la scelta del foro viene valutata sulla base delle norme nazionali e quindi per me anche in questo caso la scelta di uno stato terzo come foro competente secondo me dovrebbe essere salvaguardata nell'ambito del regolamento e quindi comunque non per questo il giudice della residenza abituale del defunto dovrebbe decidere soprassedendo e sorvolando su qualsiasi scelta del foro fatta dalle parti detto questo posto che abbiamo detto che nel caso di un cittadino di stato terzo che sia residente in uno stato membro il regolamento mi dà un foro competente e che mi stabilisce come legge applicabile in linea di principio la legge di questo stato membro di residenza purché non sceglia la legge della proprio paese di cittadinanza vediamo ora cosa succede quando il defunto non ha la residenza abituale in uno stato membro e cioè ha la residenza abituale in un paese terzo e facciamo il caso più semplice per alcuni versi che è il caso del cittadino italiano che abbia la residenza in Inghilterra qui la norma che mi disciplina la giurisdizione è l'articolo 10 che stabilisce la competenza sussidiaria questo articolo 10 è apparentemente complicato e sostanzialmente ancora più complicato di quanto appaia soprattutto per alcune soluzioni che io trovo francamente disturbanti sul piano del diritto sostanziale io ho un regolamento un considerando che non vi ho riportato qui il considerando numero 25 che mi dice che allora l'articolo 10 stabilisce la giurisdizione sussidiaria quando il defunto non ha la residenza abituale in uno stato membro ma evidentemente ce l'ha in un paese terzo nel nostro esempio l'italiano che ha la residenza abituale in Inghilterra qui il considerando 25 mi dice che i collegamenti più stretti non dovrebbero essere invocati come criterio di collegamento sussidiario quindi ai fini dell'articolo 10 ogni qual volta la determinazione della residenza abituale del defunto al momento della morte risulti complessa questo considerando 25 mi dice stai attento che tu stato membro non puoi diciamo valutare in modo diverso la residenza abituale quando la residenza abituale è in uno stato membro e quando è in uno stato terzo cioè il fatto che sia più complicato valutare la residenza in un paese terzo non significa che tu devi annullare questo criterio di giurisdizione e attirare questa successione all'interno delle altre disposizioni del regolamento ma nel momento in cui il defunto aveva la residenza abituale in uno stato terzo tu hai comunque e io ti offro comunque dei fori che ti garantiscono il diritto di decidere su questa successione in quali termini quali sono le situazioni che possono presentarsi ai sensi di questo articolo 10 prima possibilità paragrafo 1 ci sono beni all'interno dello stato membro in uno stato membro esistono dei beni ereditari e se il defunto aveva la cittadinanza al momento della morte di questo stato membro dove ci sono i beni oppure in questo stato membro ha avuto la residenza abituale per un periodo che è terminato da non più di 5 anni i giudici di questo stato membro sono competenti ma sono competenti a decidere sull'intera successione quindi io posso avere due casi il primo caso è quello del nostro cittadino italiano che è residente in Inghilterra e tra i beni della successione ci sono beni localizzati in Italia indipendentemente dalla natura dei beni dalla quantità dei beni dalla proporzione dei beni rispetto all'insieme della successione la seconda situazione è quella in cui il nostro cittadino italiano residente in Inghilterra è stato residente scusate il cittadino per esempio inglese residente in Inghilterra è stato per un certo periodo residente in Italia fino che so io al gennaio dell'anno scorso e lascia dei beni in Italia in questa situazione i giudici italiani sono competenti per tutta la successione e se questo è comprensibile quando si tratta di un cittadino italiano mi viene meno comprensibile quando si tratta di un cittadino di altro stato membro piuttosto che cittadino del paese dove addirittura ha la residenza abituale che abbia semplicemente dei beni in Italia e che abbia avuto la residenza in Italia per un certo periodo di anni residenza continuata fino a non più di cinque anni dal momento della contro della inizio della controversia mi domando quale può essere l'efficacia all'estero in questo paese di residenza abituale o nei paesi dove esistono altri beni del soggetto perché la pretesa degli stati membri in questi casi è di regolare l'intera successione non solamente la successione sui beni che sono situati all'interno dell'Unione Europea questo è l'ultimo criterio sussidiario del paragrafo 2 e cioè se nessuno stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1 quindi non è cittadino di uno stato membro non aveva la residenza abituale in quello stato membro per il periodo considerato ma comunque c'è una competenza residuale per decidere sui beni situati all'interno degli stati membri solo sulla base della presenza dei beni però questa è una previsione appunto limitata ai beni esistenti negli stati membri la prima invece è una previsione più generale per l'insieme della successione quale sarà la legge applicabile al caso che abbiamo fatto prima del nostro cittadino italiano residente in Inghilterra che ha dei beni in Italia sulla base della lettera abbiamo detto il giudice italiano è competente per l'intera successione e la legge applicabile sarà la legge della residenza abituale cioè la legge inglese questo soggetto abbiamo detto più volte nelle relazioni che mi hanno preceduto potrà scegliere la legge italiana di cittadinanza come legge applicabile se invece non sceglie la legge italiana come legge applicabile si applicherà la legge inglese e dalla legge inglese potrò ritornare o andare in altri paesi a seconda del rinvio che la legge inglese disponga per esempio potrei avere un potrei non avere il rinvio se questo soggetto sarà considerato domiciliato anche in Inghilterra per ai fini del diritto internazionale privato inglese ricordiamoci che in Inghilterra la nozione di domicilio e di residenza abituale sono diverse e ricordiamoci che il diritto internazionale privato inglese non è unificato ai sensi del regolamento quindi io posso avere uno scostamento tra le norme del regolamento che dispongono il rinvio e la norma di diritto internazionale privato di quel paese ai fini della determinazione dell'ambito del rinvio l'ultima disposizione in materia di giurisdizione che mi sembra importante sottolineare ma su cui non ho veramente nessun sentimento è il forum necessitatis il forum necessitatis è per me un mistero nel senso che esiste anche esisteva anche nella previsione nella proposta di regolamento Bruxelles 1 e se ne può solo sottolineare l'eccezionalità la spiegazione è data al considerando 31 che indica il fine l'obiettivo di questo forum necessitatis ed è complicato perché mi si chiede di decidere su questo caso in una situazione eccezionale per evitare un diniego di giustizia a un giudice di qualunque stato membro quindi non ci devono essere beni perché altrimenti avrei l'articolo 10 non deve essere un cittadino di uno stato membro perché altrimenti ci sarebbe un altro giudice all'interno degli stati membri competenti non deve essere mai stato un residente per tutto quel periodo considerato perché altrimenti avrei l'articolo 10 non avrei non so veramente quali possono essere i collegamenti forse la residenza o la cittadinanza di eredi e legatari ma io trovo un foro che permette di risolvere situazioni di diniego di giustizia per esempio mi si dice a causa di una guerra civile o quando non ci si possa aspettare che il beneficiario intenti o prosegua un procedimento in tale stato qui io vedo che l'intento è di proteggere il beneficiario il defunto è defunto arrivederci ma c'è un beneficiario che non riesce a far valere i suoi diritti in uno stato in cui c'è una situazione eccezionale mi domando però quale può essere l'effettività di nuovo della sentenza che io ottengo qui quando il collegamento è certamente un collegamento molto tenue quando non ho nessun bene su cui far valere questo diritto perché se li avessi non sarei nell'articolo 11 ma sarei nell'articolo 10 e quindi non so bene poi cosa farmene di questa sentenza e quindi questa è veramente una disposizione eccezionale che non saprei non riesco a collocare e non saprei al di là di quello che c'è scritto nel regolamento quale quale ambito di applicazione quali situazioni concrete voglia andare a considerare ma voglia andare a considerare per raggiungere un obiettivo specifico cioè per raggiungere un effetto favorevole per questo beneficiario cioè per dargli effettivamente i benefici che l'articolo 11 vorrebbe dargli l'ultima disposizione sulla giurisdizione è quella sulla limitazione del procedimento e cioè questa è una disposizione che posto che il considerando 37 che avevamo visto prima e che è stato evocato diverse volte dice che il regolamento si applica anche quando i beni sono situati anche in uno stato terzo l'articolo 12 permette di limitare l'ambito di applicazione del procedimento che venga instaurato all'interno dell'Unione e escludere i beni che si trovano uno o più dei beni che si trovano in paesi terzi se e questo finalmente è un elemento di effettività che si ritrova alla fine nel regolamento ed è l'unico devo dire in tutto questo bailame degli stati terzi se pensa che la decisione non sarà riconosciuta né resa esecutiva nello stato terzo dove si trovano i beni quindi non è chiaro qui se questa limitazione sia anche una limitazione sostanziale cioè se per esempio io considero questi beni nella valutazione dell'insieme della massa oppure no cioè se questa disposizione li esclude completamente quindi io divido e considero la massa ereditaria composta solo dei beni esistenti negli stati membri oppure se li considero e poi lascio che i beneficiari si arrangino ad andare negli stati terzi questo non viene detto e non ho una risposta credo che mi viene da pensare che debbano essere esclusi proprio cioè io non se non me ne occupo non me ne occupo non li conto nella massa perché comunque io non saprei come farli arrivare nelle mani dei beneficiari visto che per definizione io mi limito quando penso che la mia decisione non sarà riconosciuta quindi vuol dire che la decisione che io pronunciassi tenendo quei beni nella massa sarebbe una decisione che per quella parte non potrebbe avere esecuzione cioè sarebbe un controsenso però magari mi sbaglio infine e qui i rapporti con stati terzi sono facilissimi riconoscimento e esecuzione delle sentenze il regolamento non si occupa del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze che provengono da stati terzi si occupa esclusivamente del riconoscimento dell'esecuzione delle sentenze pronunciate in stati membri tuttavia come nel regolamento Bruxelles 1 io ho una disposizione che un qualche effetto alle sentenze degli stati terzi lo dà nella misura in cui una sentenza di uno stato terzo può impedire il riconoscimento di una sentenza pronunciata in un altro stato membro ed è l'articolo 40 lettera D che enuncia i motivi di diniego del riconoscimento e dice che una decisione non è riconosciuta se è incompatibile con una decisione messa precedentemente tra le stesse parti in uno stato terzo in un procedimento avendo il medesimo oggetto e il medesimo titolo purché sia abbia le condizioni necessarie per essere riconosciuta nel paese in cui viene chiesto il riconoscimento della sentenza dell'altro stato membro che viene bloccata al confine quindi un effetto queste sentenze ce l'hanno ma è un effetto che è tradizionale all'interno del diritto dell'Unione Europea a partire dalla Convenzione di Bruxelles ed è una questione di garanzia delle sentenze che sono emesse precedentemente e che vivono fluttuano nel paese del riconoscimento perché già vi si trovano prima che venga pronunciata questa sentenza a cui si oppone il rifiuto scusatemi per la imprecisione di tante osservazioni come ho detto sono osservazioni preliminari sotto questo profilo il regolamento ha delle disposizioni complesse e non tutti i problemi vengono ma neanche vengono percepiti di quella che sarà l'applicazione del regolamento e i metodi di coordinamento tra l'applicazione del regolamento all'interno e l'applicazione delle norme che risultano dal regolamento all'esterno proprio perché non c'è una distinzione di confini tra regolamento e gli stati terzi per molti versi e come tutti voi sapete nella prassi e la vostra prassi è molto molto più sviluppata e ampia di quella che ho visto io e che hanno visto tanti accademici naturalmente le successioni vanno in uno stato o nell'altro e hanno implicazioni trasfrontaliere in stati dell'Unione Europea e non dell'Unione Europea indifferentemente e non ci si ferma ai confini quindi avremo infiniti casi in cui la portata reciproca delle disposizioni del regolamento e di altre disposizioni o di rapporti con stati terzi dovrà essere misurata sul campo grazie abbia tratto dubbi da queste nostre presentazioni è arrivato il momento di quesiti e dibattito a meno che qualcuno di noi qui dei relatori non abbia da presentare già qualche caso esemplare che forse si era preparato ma non vedo segnali da questa parte Ugo scusami non c'è ecco adesso scusatemi no mi è stato chiesto prima un chiarimento quando io ho detto che una società immobiliare francese francese sostanzialmente viene equiparata ai beni immobili la norma della convenzione per precisione tra l'Italia e la Francia dice l'espressione beni immobili quindi l'espressione beni immobili comprende anche per quanto riguarda la Francia le azioni o parti di una persona morale quindi una società della quale l'attivo è principalmente costituito dai mobili situati in Francia o diritti agli stessi afferenti quindi la norma sembrerebbe riguardare solo il caso in cui gli immobili siano situati in Francia il secondo dubbio è se quando si parla di personne morale ci si riferisca solo a una società francese o ci si possa anche in questo caso riferire sempre con riferimento al fatto che la società possiede immobili in Francia anche a una società italiana caso non raro su questo la convenzione non è effettivamente chiarissima se si volesse leggere quella Legarde de la France solo con riferimento al fatto che la personne morale debba avere sede solo in Francia saremmo limitati a quello però mi viene da consigliare prudenza su questo aspetto specifico era solo un chiarimento perché il caso parla solo di società con sede a Saint-Jean-Caferrat ma non chiariva questo aspetto mi era stato chiesto prima e quindi non so se la persona che me l'ha chiesto nell'intervallo è presente ma volevo fare questo chiarimento grazie grazie per patto successorio si intende un patto di non più persone parti dell'accordo questo per noi è molto importante ho sentito però la gentilissima collega Danila che escludeva che questo fosse limitativo della definizione a tutti quei patti in cui la persona della cui successione si tratta non fosse parte dell'accordo perché questo per noi è molto importante pensate al fatto che è un secondo elemento di esclusione di uno degli unici due casi di patto successorio riconosciuto che abbiamo nella nostra legislazione l'articolo 563 ultimo comma che viene escluso già perché è patto rinunciativo e poi anche perché non rientra in questa definizione per quest'ultimo aspetto grazie 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 io ripeto una question per esclare che ho capito che vedo under la regola un pacto succesorio può non refer alla successione di una persona se che non è parte della agreement sì in dire quindi ho capito la regola ho l'impressione ma l'opinione è un'opinione che ho trovato in un libro scritto da Prof. Bonomi sul tema del regolamento. Nel libro dice che, almeno queste regolazioni non sono necessariamente subito alla regolazione, la regolazione dovrebbe essere sempre più applicabile. E il suo risultato, che sto ripetendo ora, è che, secondo la regolazione, di avere questi regolamenti restricciti per i più limitati condizioni della regolazione, di avere questi regolamenti subito a altre condizioni, come le condizioni in Regolazione 1. Questo è solo un'opinione, è l'opinione della professora che ho trovato interessante e che ho ripetato nella mia presentazione. Non c'è una garantia che quello che sto dicendo sarà la soluzione accettata. E c'è anche la questione di valutità di soluzioni sucessioni. che ho detto prima, che non sono validi in rumanian o italian law e, a mio compagno, non sono validi in un'unione europea. Ma, comunque, la regolazione è parte del comunitario agvis comunitario. Quindi, potrebbero essere situazioni in cui i paesi aderono e che si applicano questa regolazione che permette un tipo di accordi come la successione. Ma, in realtà, interpretando le regolazioni come è scritto, questi accordi sarebbero escludi. Se un cittadino italiano ha residenza abituale nel Principato di Monaco, può, con un testamento, chiedere che la sua successione sia regolata secondo le norme del Principato? Un cittadino monegasco? Se ha la residenza abituale nel Principato di Monaco? No. Se ha la residenza abituale nel Principato di Monaco. Il Principato di Monaco è uno stato terzo rispetto al regolamento. Quindi, se ha la residenza abituale nel Principato di Monaco io devo avere i criteri di giurisdizione sussidiari ma lui non può scegliere la legge della residenza abituale. Cioè, le nostre disposizioni della 218 ce le dimentichiamo. Oggi può scegliere la legge della residenza abituale. Questo sì se desidera oggi che la sua successione sia regolata dalla legge del Monaco e questa scelta a favore della legge di Monaco sarà, continuerà a essere valida ai sensi dell'articolo 83 paragrafo 4 in quanto è stata redatta oggi prima dell'entrata in vigore del regolamento in conformità alla legge che avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento no scusate non il 4 no 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 non è il 4 è l'84.2 se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta. quindi sulla base della nostra legge è possibile sceglierla e questa legge se la voglio continuare a mantenere perché voglio che si applichi quella la legge della residenza abituale io lo posso fare e questa scelta manterrà il suo vigore anche sulla base del regolamento. Se vuole quella legge la sceglie in fretta. il punto è se quella legge poi è valida ai fini di Monaco nel momento in cui dovesse andare a discutere a Monaco. Sì. Sì. Sobre questa misma questione. Después del 17 di agosto del 2015 il ciudadano italiano che tiene la residenza della residenza abituale in Monaco solo potrà optare per la legge della nacionalità. Però nel testamento desde il punto di vista può dire che voglio che si applichi la legge la legge di Monaco perché è la legge di mia residenza abituale. De questa maniera siamo dejando nel testamento il elemento subiettivo della residenza abituale. Siamo dejando precostituidas pruebas per che il giorno della residenza abituale. Sì. 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 il testatore manifesta nel testamento che vuole che la sua sucessione si rige per la legge di sua residenza abituale. Da mio punto di vista il primo elemento per determinar dove sta la vinculazione più estrella hai che buscarlo nella volontà del causante che come diciano i romani è la prima legge della sucessione. una scelta una scelta una scelta a favore del paese della residenza abituale sulla base della nostra legge oggi. Resta valida in senso dell'articolo 2 ma nel momento in cui entra in vigore il regolamento che comunque dispone dell'applicazione della legge della residenza abituale potrebbe non avere nessun senso. Quindi non serve a nulla. Se non effettivamente come appena ha detto il collega per impedire che si applichi il secondo comma sul collegamento ancora più stretto e si faccia cadere quella il criterio della residenza abituale. Cioè se questo cittadino italiano residente a Monaco ha gran parte dei beni in Italia è evidente che il giudice potrà tentare di tornare attraverso il collegamento più stretto alla legge italiana. Quindi la scelta della legge di residenza ha questo effetto di irrigidire il criterio della residenza e renderlo difficilmente rovesciabile. Il discorso potrebbe anche fornire argomento appunto per dire ma al di là di una vera e propria scelta di legge applicabile che cosa posso dire nel testamento che aiuti a individuare a sostenere eventualmente l'elemento soggettivo che dicevamo stamattina della residenza abituale. Se io dicessi in un testamento sì è vero sto sei mesi qui sei mesi là però io reputo quella la mia residenza abituale perché come faccio notare le cose stanno così e così beh questo potrebbe essere un elemento interessante insomma anche da se veramente crediamo come crediamo che l'elemento soggettivo nella determinazione della residenza abituale sia importante io credo che anche diciamo così una redazione di testamento fatta in quella chiave possa essere utile poi ancora direi per nostra consolazione che detto questo quindi non mi sembra vietata la scelta quella diciamo non prevista ecco perché allora no sappiamo un po' a noi che brividi ci dà il fatto di dire ah ma quello era non potevi farlo era vietato non è vero magari lo vestiamo non è vero io credo che non sia vero ecco non vorrei dare ma magari lo vestiamo da elemento soggettivo nella nella determinazione della residenza abituale dici ecco se me lo dice il decano qui del collegio allora volentieri se non ci sono altre domande ringraziando molto sentitamente chi è restato fino a quest'ora e ancora di più se ci lasci al questionario io vi ringrazio molto per la vostra attenzione e non finisce qui perché questo è solo il seminario introduttivo di questa serie quindi siete attesi a Madrid Bucharest Monaco di Baviera seguiteci che vi divertirete ancora di più speriamo grazie a voi tutti grazie 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 grazie